Possiamo dare inizio ai lavori, siamo ancora nell'ambito del quarto d'ora accademico, quindi i professori concordano e vi do il benvenuto. Io sono Giuseppe Chiappero, sono co-referente dell'osservatorio responsabilità d'impresa fattori ISG che con l'evento di questo pomeriggio riprende i suoi lavori nell'anno 2024. L'osservatorio è stato istituito lo scorso anno su iniziativa del nostro presidente Luca Svisio di cui vi porto i saluti. Questo evento si svolge in un momento di particolare evoluzione della normativa che ha portato dall'inizio di quest'anno alla definizione del quadro della tassonomia europea con l'adozione dal primo gennaio dei criteri di vaglio tecnico relativi ai restanti quattro obiettivi ambientali del regolamento tassonomia ed è di pochi giorni fa la notizia che su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento del Tesoro è stata avviata la pubblica consultazione dello schema del decreto legislativo di recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD che attraverso le modifiche che ha portato all'Accounting Directive e anche alla direttiva revisione influenzerà in modo significativo le modalità di rendicontazione da parte delle imprese delle informative societarie di sostenibilità innovando il relativo sistema di trasparenza delle responsabilità e dei controlli. Il fil rouge dell'incontro di questo pomeriggio come avete visto dal programma sarà dunque il ruolo del sistema della tassonomia europea nel promuovere a supporto delle imprese e del territorio la transizione cosiddetta net zero verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile. La tassonomia infatti è un potente strumento anche in ottica di contrasto al greenwashing che consente alle imprese di pianificare la propria transizione climatica definendo dei criteri comuni a livello europeo validati scientificamente consente agli investitori di un territorio di sapere se un'attività economica è effettivamente ecosostenibile e quindi la tassonomia costituisce una guida affidabile per orientare le decisioni di investimento. Ai partecipanti ai mercati finanziari la tassonomia consente attraverso le modifiche apportate al regolamento disclosure di evidenziare i rischi ESG sottostanti i prodotti finanziari i loro potenziali effetti negativi e gli effetti sui rendimenti attuali e prospettici. Infine ai governi anche locali la tassonomia consente di indirizzare le risorse su progetti a favore di attività economiche sostenibili a partire in Italia dai progetti a valere sui fondi del PNRR nel cui contesto essa costituisce un elemento cardine come vedremo nell'assegnazione delle risorse europee. Le sfide della sostenibilità interessano quindi sempre di più in termini di governance, di strategie, di processi, di valutazione degli impatti, rischi e opportunità e nella definizione di donne e metriche e obiettivi il mondo economico, la pubblica amministrazione e la responsabilità sociale delle imprese. Di qui la presenza oggi a questo tavolo del mondo della professione e chi più del Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, Dottor Giuseppe Buonocore, che ringrazio, potrà testimoniare come la sostenibilità declinata nei fattori ESG sempre più influenzi l'agire dei commercialisti informando il loro sviluppo professionale. Avremo quindi oggi, e sono già qui a questo tavolo, la presenza del mondo accademico, qui rappresentato dal Dipartimento di Management Walter Cantino, in particolare dal Professor Paolo Biancone e dal Professor Valerio Brescia, i quali offreranno un inquadramento scientifico degli strumenti della tassonomia, quale leva di analisi ESG verticale nell'ambito delle organizzazioni. Assai rilevante la presenza a quest'oggi delle istituzioni e in particolare della città di Torino, qui rappresentata dall'ingegner Chiara Foglietta, Assessora alla Transizione Ecologica e Digitale, mobilità, trasporti e innovazione, che ha saputo cogliere come città di Torino la sfida della sostenibilità, proponendo Torino quale città pilota nel gruppo delle 100 municipalità, che a livello europeo hanno scelto di anticipare al 2030 gli obiettivi net zero, di cui oltre a Torino altre otto città italiane. E quindi in ottica di analisi verticale vedremo quest'oggi come il settore del trasporto pubblico ed in particolare la principale azienda del sistema delle partecipate pubbliche della città di Torino, il gruppo torinese Trasporti, svolga un ruolo rilevantissimo nel perseguire tali obiettivi, come ci illustrerà il suo amministratore delegato, avvocato Serena Lancione, che ringrazio anche lei ovviamente della sua presenza. E facciamo ovviamente un applauso. Infine, in ottica di modello Torino, tanto caro al nostro past president Aldo Milanese, cui è dedicato alla sala consigliare qui accanto, vedremo come i mondi che vi ho descritto abbiano saputo amalgamarsi per costruire attorno alle politiche di sostenibilità di GTT un agire che mette in risalto, da un lato, il ruolo dell'asseverazione della dichiarazione non finanziaria affidato a un commercialista, revisore legale, il dottor Davide Barberis, individuato nell'ambito di un protocollo di collaborazione interistituzionale tra GTT, il Dipartimento di Management Walter Cantino e il nostro ordine. E dall'altro, il coinvolgimento dei diversi settori aziendali. Ringrazio Sindora per la loro presenza quest'oggi, l'architetto Salvatore Gaudiello, la dottoressa Gabriella Sanfilippo e la dottoressa Maria Teresa Travaglini per il loro contributo a questo evento. Nella illustrazione di uno strumento, il bilancio di sostenibilità, oggi, come vedremo, nella forma della dichiarazione non finanziaria, domani in quella della rendicontazione prevista dai nuovi principi di European Sustainability Report Standard, inclusa in ottica di connectivity col bilancio e di analisi verticale la disclosure sulla tassonomia, che mette in luce i risultati raggiunti e pianificati dall'azienda in sintonia con gli indirizzi del suo piano industriale, a garanzia della sostenibilità e continuità del servizio pubblico. La sostenibilità costituisce dunque, in questa fase storica, l'orizzonte in cui si proietta il cambiamento del mondo economico e delle professioni che lo accompagnano, a partire dai commercialisti. Passo dunque la parola al dottor Buonocore per il suo intervento introduttivo. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie all'osservatorio sulla sostenibilità per averci dato questo spazio. A me tocca adattare il tema dei giovani della professione della sostenibilità. Come ben sappiamo la nostra è una profusione in evoluzione e abbiamo un mercato delle normative che cambiano sempre più rapidamente. Però questo può essere da un lato visto come un minus, un problema di programmazione, ma dall'altro si può anche cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno perché questi continui cambiamenti comunque ci portano ad avere nuove opportunità di mercato e nuove sfide comunque da poter intraprendere a livello professionale. Abbiamo visto come alcune ultime normative stanno facendo riaffermare la nostra figura come quella che originariamente era, cioè di consulente dell'imprenditore, figura che è stata un po' scalzata magari negli ultimi anni da mero burocrate dedicato agli adempimenti. Questo per il cliente perché noi sappiamo benissimo quanto lavoro c'è dietro anche ad un semplice F24, solo che magari facciamo fatica a farlo riconoscere al nostro cliente. soprattutto perché le normative ormai, come sappiamo, non le facciamo più in casa nostra, ma hanno matrice comunitaria, così come anche la moneta è di stampo comunitario, le direttive bancarie sono di stampo comunitario, quindi sono rivolte ad imprese europee e in Europa sappiamo che le imprese sono un po' più strutturate. Noi nel nostro Paese abbiamo una caratterizzazione delle nostre PMI che sono sottocapitalizzate di piccola dimensione e senza cesura tra la governance e l'assetto proprietario. E questo fa sì che molto spesso queste normative vengano recepite dalle nostre imprese come un ulteriore balzello o comunque come una problematica da dover affrontare di volta in volta perché non sono abbastanza strutturate. Per come la vedo io, queste normative ci danno l'opportunità di essere sempre più a fianco dell'imprenditore per andare a colmare quella figura che manca nelle nostre PMI del CFO e del CEO, ad esempio, perché sappiamo che questo tipo di figura ha un costo e le imprese che noi tendenzialmente seguiamo non possono permettersi a livello di conto economico di pagare determinati denari per queste figure manageriali, per cui sta a noi riuscire assieme all'imprenditore a colmare questa mancanza per affrontare le sfide che il mercato ci impone, in primis adeguati assetti e di conseguenza sostenibilità, perché noi oggi parliamo di sostenibilità che è molto bello, molto importante, ma se le nostre imprese non si dotano di determinati adeguati assetti che permettono di monitorare quelli che sono i KPI, gli indicatori di performance finanziaria e economica, vedo molto difficile la possibilità di riuscire a monitorare dei KPI di sostenibilità che sono ancora più ardui, soprattutto in questa fase ancora molto labile, diciamo così. Quindi qual è il nostro ruolo come giovani commercialisti? Sicuramente è star sempre pronti e cercare di essere preparati per le nuove sfide, ma soprattutto cercare di diffondere questa nuova cultura di impresa. Sappiamo che le aziende, volenti o nolenti, dovranno andare nella direzione della sostenibilità, per motivi che conosciamo, perché ormai tutta la finanza va in quella direzione, quindi anche i fondi di private, prima di acquisire un'azienda o entrare in un'azienda, guardano se questa azienda è sostenibile, perché le banche sempre più chiederanno dei parametri di sostenibilità per finanziare le imprese, per il tema della catena del valore, quindi della catena di fornitura, e anche perché sta cambiando l'approccio dei consumatori al mercato, soprattutto da parte dei più giovani. Oggi siamo ancora in una fase, permettetemi di dire, di ipocrisia da parte dei giovani, perché anche le ultime indagini di mercato mostrano come i giovani sono più propensi a comprare prodotti sostenibili, ma sono poco disposti a pagare quel quid pluris in più per avere il prodotto sostenibile. Un esempio concreto lo è una piattaforma che io molto ignorantemente non conoscevo, che ho scoperto che si chiama Temu, che è di stampo asiatico, che comunque offre prodotti totalmente non sostenibili e tutti i giovani comprano da quella piattaforma lì, perché ovviamente si compra a poche decine di euro, se non proprio pochi euro. Quindi questo però sarà un tema che, con la maggior competitività da parte delle nostre imprese su prodotti sostenibili, farà sì che in qualche modo si andrà a dirimere. So che ci sono anche molti colleghi che sono scettici sul tema della sostenibilità, un po' perché oggi magari non riescono bene a capire in che cosa si può sostanziare, un po' anche perché temono che tutta questa tematica andrà a favore di grandi società di consulenza. Io non la penso così perché noi abbiamo un grosso vantaggio, noi abbiamo un rapporto fiduciario con le nostre PMI e abbiamo un modo di lavorare diverso dalle società di consulenza, più tailor made. Quindi la sfida per noi giovani sarà quella di riuscire a offrire ai nostri clienti tutti, di riuscire a soddisfare i bisogni che i nostri clienti avranno nel tempo. Oggi la sostenibilità, ieri bar oggi è adeguata e setti, domani chissà. Solo quello è il modo, secondo me, nel quale riusciremo a far sì che i nostri clienti non decidano di andare altrove. Questo lo si può fare e lo si deve fare anche ovviamente appoggiandosi ad altri colleghi, perché ormai ognuno è specializzato in un qualcosa e quindi non possiamo pensare di presidiare tutte le materie. Quindi oggi cosa si fa? Oggi si cerca di seminare culture ESG per poi raccogliere un domani perché oggi l'imprenditore magari non ci ascolta, soprattutto la PMI, però domani, gioco forza, si troverà nella condizione di dover rispondere a dei questionari sulla sostenibilità o di dare informazioni sulla sostenibilità e sarà importante in quel momento che si ricorderà che è il suo commercialista che gli ha parlato di sostenibilità e non una figura magari meno professionale di noi ma che è più brava a vendersi, perché se no così facciamo il danno del nostro cliente. L'importanza di attivarsi oggi sta sostanzialmente nel riuscire a cavalcare il cambiamento generando anche un vantaggio competitivo nell'impresa e non poi doversi trovare a subirlo un domani quando bisogna rincorrere cercando di mettere pezzi a destra e a sinistra per dimostrarsi sostenibili. Inoltre partire oggi dà la possibilità di poter decidere autonomamente il proprio percorso di sostenibilità, perché comunque la normativa c'è, è ancora molto un mainframe la normativa, non ci sono ancora dei parametri precisi e delle metriche per ora ancora precisissime, quindi molto sta nel racconto della sostenibilità, quindi partire oggi permette di applicare la sostenibilità con gradi e questo è molto importante anche da un punto di vista economico per il cliente perché può scegliere come e quanto investire per tempo. Oggi è già arrivata la sostenibilità, lo sappiamo perché c'è la normativa CSRD che è già attiva da quest'anno, quindi ci saranno una serie di imprese che l'anno prossimo dovranno redigere il bilancio di sostenibilità, sono uscite le nuove normative del collegio sindacale per quel che riguarda la nostra categoria che parlano anche delle verifiche che l'organo di controllo deve fare sulle tematiche di sostenibilità e sono anche in arrivo le nuove direttive EBA nelle quali ci saranno invece a quel punto delle metriche di valutazione delle nostre imprese da un punto di vista della sostenibilità e lì ci sarà sicuramente un cambiamento decisamente impattante, anche se già oggi in realtà le direttive EBA impongono alle banche di valutare il rischio di transizione che c'è nel momento in cui si va a concedere un finanziamento o a rinnovare un finanziamento a un'impresa. Come strumento oggi possiamo dire che abbiamo la tassonomia, perché la tassonomia oggi già c'è, quindi faccio un esempio molto banale. Se a livello di tassonomia io provo a immaginare che sono, visto che dopo parleremo di trasporti, un'azienda che produce motori termici e quindi tutti i miei recavi derivano da motori termici, nella tassonomia e negli obiettivi soprattutto, i sei obiettivi imposti dalla tassonomia UE, questi ricavi a tendere sicuramente non andranno più bene, ma dovranno in qualche modo essere convertiti. Quindi oggi qualche strumento operativo lo abbiamo già. Quindi, chiudendo, in conclusione, questo è l'anno di Torino, capitale della cultura d'impresa. Ho detto più volte la parola cultura d'impresa nel mio discorso, perché io credo che per avere una sana cultura d'impresa, il ruolo del dottore commercialista è assolutamente fondamentale. Quindi noi dobbiamo renderci parte attiva e proattiva di questo cambiamento. Vi ringrazio. Grazie al dottor Buonocore per questo suo intervento puntuale che ha messo molto bene in luce come i fattori della sostenibilità influenzino sicuramente l'attività del commercialista in prospettiva, perché si tratta di una materia che interessa in modo trasversale ogni dimensione della gestione e della cultura dell'impresa. Ha citato gli aspetti relativi agli adeguati essetti, quindi la governance, i processi, e soprattutto una rendicontazione attente e rispondente ai bisogni degli stakeholder interni e esterni, a partire dal sistema bancario. Io passerei quindi adesso la parola ai colleghi del Dipartimento di Management Walter Cantino, il professor Paolo Biancone per primo, i quali illustreranno come gli obiettivi della tassonomia, che sono stati citati anche nell'intervento introduttivo, si collocano nel quadro più generale dell'evoluzione normativa e quali strumenti le imprese abbiano a disposizione per definire i parametri di ecosostenibilità delle proprie attività economiche. E in particolare chiederei ai colleghi del Dipartimento di evidenziare la potenzialità della tassonomia come strumento che consente a un numero crescente di imprese identificate, come vedremo con codice NACE, di classificare le attività da essere svolte sulla base di criteri scientifici come ecosostenibili, cioè capaci di fornire un contributo sostanziale ad uno degli obiettivi ambientali previsti dal regolamento, non creare contestualmente un danno significativo a nessuno degli altri, quindi il principio del do not significant harm mutuato tra l'altro dalla normativa come dicevo già prima del PNRR, rispettare contestualmente le garanzie sociali minime dettate dai principi etici internazionali di comportamento delle imprese, il tutto nel rigoroso rispetto dei criteri di vaglio tecnico definiti dai regolamenti attuativi. Passo dunque la parola al professor Biancone che ringrazio nuovamente. Grazie, buonasera a tutti. Due considerazioni e poi passo la parola a Valerio per l'approfondimento tecnico sulla tassonomia. Qui siamo di fronte a un passaggio che vorrei sottolineare e molto importante che è quello da adempimento, cioè facciamo tutto questo perché ce lo impone qualcuno, ha grande opportunità di rileggere l'attività aziendale e come attività aziendale allargo il tiro rispetto all'impresa perché coinvolgo anche tutta la dimensione di impresa pubblica e di impresa, o meglio di azienda pubblica e di azienda ibrida. Cosa vuol dire questo? Vuol dire iniziare a pensare che gli obiettivi si possono raggiungere soltanto se abbiamo un processo di pianificazione volto alla sostenibilità. E qui il grande valore che come professionisti noi possiamo dare alle nostre aziende di riferimento, cioè non pensare soltanto di appiccicare dietro una rendicontazione che sia una DNF piuttosto che un bilancio sociale, piuttosto che un rapporto di sostenibilità in base alle norme che ci sono o che verranno, ma dobbiamo pensare al fatto che il piano deve essere organizzato anche con una visione sulla sostenibilità e di conseguenza ecco qui che la tassonomia diventa importante perché mi inizia a dire quali sono le cose che fanno bene al pianeta e quali sono le cose che non fanno bene al pianeta. Se io le vedo soltanto a ex post poi mi ritrovo nella condizione di dire ma io facevo un motore a scoppio, adesso non va più bene, come faccio, eccetera. Io devo pensare in un'ottica di investimenti legati alla sostenibilità e quindi avere un'ottica di pianificazione. Noi sappiamo benissimo che molte delle nostre aziende i controlli di gestione non sanno neanche cosa sia però intanto che proviamo a impostare questo impostiamolo a 360 gradi cioè iniziamo a ragionare in un'ottica virtuosa se no altro che i fondi di investimento che vengono a scegliere le nostre aziende vengono a comprare o il marchio o quel minimo di tecnologia per poi portarlo o in ambienti dove non ci sono regole da un punto di vista di sostenibilità e quindi prodotti a basso prezzo l'importante è che ci siano oppure delle realtà che sono delle colonie invece noi vogliamo che le nostre realtà siano resilienti a tutta questa dimensione quindi non dobbiamo pensare di essere in un territorio che forzatamente impone delle regole che poi castrano le nostre posizioni perché se noi guardiamo l'Unione Europea adesso sta facendo una programmazione molto mirata sulla sostenibilità mentre tutti gli altri paesi del mondo un po' meno e quindi la logica è quella di provare a rivalutare il valore delle nostre aziende anche in un'ottica di sostenibilità dal punto di vista della pianificazione la tassonomia è l'elemento centrale perché mi dice che cosa è buono e che cosa non è buono e soprattutto mi evita quel meccanismo dove quando le regole sono ancora lasche ognuno racconta quello che vuole e quindi ognuno la pensa a modo suo e quindi è una classificazione adesso abbiamo una tassonomia per la dimensione ambientale poi ci sarà la tassonomia per la dimensione sociale che è in via di adeguamento e così via in modo da iniziare a ragionare su tutta una dimensione che è condivisa e soprattutto è univoca e quindi è confrontabile può diventare a livello mondiale quello che è uno standard importante di riferimento grazie continuo il discorso ovviamente il cappello introduttivo è utile per capire che in realtà ci sono numerose politiche portate avanti dalla comunità europea che in qualche modo collimano tutto insieme verso gli stessi obiettivi fortunatamente la comunità europea ha iniziato a introdurre anche una serie di strumenti tra questi strumenti di cui parlavamo c'è ovviamente la tassonomia europea quindi il regolamento del 2020 sulle attività economiche ecosostenibili che in qualche modo vengono classificate e indirizzate verso indicatori specifici questo fornisce quindi in qualche modo un vincolo verso le società i settori più che altro che prima non erano orientati indirizzati a valutare i diversi ambiti ISG e quindi in qualche modo orientano verso degli obiettivi specifici legati alla tassonomia come la mitigazione dei cambiamenti climatici l'andamento dei cambiamenti climatici l'uso sostenibile della protezione delle acque e delle risorse marine la transazione verso un'economia circolare che fa parte dei temi principali negli incontri realizzati qui all'ordine la prevenzione e riduzione dell'inquinamento la produzione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi tutti questi obiettivi vanno in qualche modo uniformarsi verso quelli che sono degli indicatori che per il momento guardano degli aspetti più puramente ambientali perché diciamocelo chiaramente ancora non sono stati predisposti degli indicatori e degli indici di valutazione legati più all'ambito social quindi all'ambito sociale però indirizzano in qualche modo già le attività e le operazioni che le aziende devono svolgere questo regolamento legato alla tassonomia riguarda quattro condizioni generali che devono essere in qualche modo rispettabili il contributo sostanziale cioè l'attività deve apportare un contributo a uno degli obiettivi ambientali che abbiamo visto precedentemente l'azienda non deve portare dei danni significativi quindi è quello che era stato accennato come the not significant harm non in qualche modo mitigare tutte le azioni che possono portare a un peggioramento delle condizioni ambientali e sociali conformità con le salvaguardie minime e quindi devono essere rispettate tutte le salvaguardie previste ovviamente dalla legge e poi conformità con i criteri tecnici riferiti proprio all'ambito della tassonomia e definiti dai diversi atti che cosa interessa poi per quanto riguarda il trasporto? La tassonomia in realtà in qualche modo il trasporto pubblico così come quello privato lo va a toccare e si concentra principalmente su alcuni aspetti focali quali l'emissione di CO2 le azioni di riduzione delle emissioni di carbonio come obiettivi generici che poi possono essere declinati con l'utilizzo di un trasporto pubblico che utilizzi metro, tram e bus con energia elettrica trasporto pubblico urbano e bus con motrici euro 6 e trasporto pubblico ferroviario a trazione elettrica quindi questi tre sono gli elementi che in qualche modo vengono maggiormente mappati e da tenere maggiormente sotto controllo queste attività quindi svolgono un ruolo di valutazione e mitigazione del cambiamento climatico che ovviamente è in corso e che tutti quanti percepiamo l'evoluzione della tassonomia vediamo che è iniziata nel 2018 con l'introduzione del regolamento nel 19 sono stati definiti i primi criteri e le prime linee guida legate alla tassonomia ambientale nel 2020 è stato introdotto effettivamente ufficialmente il regolamento per poi iniziare una fase di applicazione nel 2021 nel 2022 vediamo che vengono effettuate le prime revisioni a questo regolamento legato alla tassonomia per chiarire meglio quali erano i criteri e le direttive da applicare alle diverse attività economiche sostenibili nel 2023 vediamo che il 30 giugno 2024 è stata prevista proprio l'implementazione di un secondo set di standard coordinati dall'EFRAG questo ente di cui parleremo successivamente che in qualche modo raggruppa e orienta tutti quelli che sono i standard da applicare per indirizzare verso la tassonomia e raccogliere degli indicatori univoci all'interno dei bilanci sociali o dei documenti non finanziari come vengono chiamati in altri paesi nel 2024 vi sarà poi l'obbligo di un report di sostenibilità per una serie di settori e di aziende di cui andremo a parlare quindi l'impatto sulla tassonomia nei diversi settori vediamo che riguarda energia ambiente quindi l'investimento in fonti di energia rinnovabile come solare, olico, idrico riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e vedremo che ci sono delle politiche in atto proprio per promuovere queste attività trasporti per promuovere dei veicoli a emissioni zero come veicoli elettrici o ibridi riducendo quindi l'inquinamento e poi specificatamente legati a alcuni settori dell'industria che in qualche modo devono mitigare sia lo stoccaggio di carbonio sia l'emissione di gas serra come dicevo la comunità europea fortunatamente non lascia sole le aziende quindi in qualche modo ha iniziato a produrre degli strumenti per in qualche modo supportare la realizzazione di questi documenti e la misurazione di questi indicatori legati alla tassonomia l'european taxonomy navigator è uno di questi strumenti da che cosa è formato principalmente ci sono quattro elementi che lo compongono l'european taxonomy compass che in qualche modo mette insieme tutti quelli che sono gli atti delegati gli ultimi atti delegati che dovrebbero essere attuati l'european taxonomy calculator che guida in qualche modo nel calcolo effettivo degli indicatori CAPEX e OPEX nei diversi settori e quindi in qualche modo permette una contabilizzazione una misurazione attraverso quegli indicatori che dicevamo oggettivi e poi il terzo elemento è un insieme di facu un insieme di domande e risposte che sono state fatte nel tempo della comunità europea proprio sull'applicazione degli indicatori di tassonomia ai quali la comunità europea ha risposto fornendo maggiori spiegazioni quarto elemento è poi una guida alla tassonomia che in realtà è indirizzata a chi non è addetto ai lavori quindi a chi non dovrebbe direttamente applicare gli strumenti di tassonomia e di rendicontazione sociale ma leggerli quindi in qualche modo c'è un linguaggio diverso e ci sono 12 casi studio che vengono in qualche modo spiegati e dimostrati all'interno di questa sezione quali sono gli obiettivi dell'European Taxonomy Navigator in realtà ce ne sono quattro principali della commissione europea che poi vengono richiamati da diverse politiche il primo è quello che richiama anche la FIT 55 quindi la riduzione dell'anidride carbonica del 55% rispetto al entro il 2030 rispetto a quelli che erano i livelli del 1990 nessuna ulteriore emissione di anidride carbonica entro il 2050 e inoltre ovviamente l'adozione di quelli che erano gli obiettivi di Sustainable Development Goal legati proprio al cambiamento climatico entro il 2050 a questi si associa ovviamente perché sappiamo che è una ripercussione anche la riduzione dell'incidenza sulla salute della popolazione tutti questi strumenti hanno però un'incidenza anche sul cambiamento che le aziende in qualche modo dovrebbero mettere in atto per riuscirli a rispettare tra questi c'è l'innovazione e l'adozione di nuove tecnologie orientate proprio a ridurre l'emissione di CO2 all'interno dei reporting quindi è possibile riuscire in qualche modo a personalizzare quelli che sono i contenuti proprio per rispondere a quelli che sono i bisogni e le richieste della Commissione Europea all'interno del settore trasporti quindi lo strumento può essere personalizzato offrendo un approccio orientato proprio al trasporto sul settore di cui parlerà poi il GTT questo European Taxonomy navigator fornisce anche alle imprese quindi dei trasporti un insieme di regole che possono in qualche modo orientare verso l'utilizzo di nuove tecnologie sostenibili che possono essere messe in atto e poi un insieme di informazioni su come valutare la riduzione dell'impronta ambientale all'interno dell'azienda stessa gli obblighi di disclosure e quindi di rappresentazione di queste informazioni all'interno dei documenti finanziari che ci sarà successivamente che già presente all'interno delle DNF dei gruppi consolidati vediamo che diventerà in qualche modo obbligatoria anche per aziende che hanno dimensioni sempre più piccole come sapete dal 2050 anno fiscale 2024 quindi questo è in corso tutte le società che sono obbligate in qualche modo a rappresentare questi indicatori di tassonomia sono quelle che hanno un numero di attetti superiore a 250 un attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro un fatturato superiore a 40 milioni di euro superando almeno due di questi elementi diventa obbligatorio in qualche modo fornire una rappresentazione dal 2026 cambiano in qualche modo i criteri le grandi imprese non quotate con gli stessi indicatori dovranno iniziare ad adottare gli indicatori di tassonomia all'interno dei bilanci ordinari oppure in affiancamento all'interno dei bilanci sociali integrati che realizzano dal 2024 anno fiscale 2026 vediamo che si riducono le dimensioni delle aziende perché le piccole medie imprese quotate escluse le micro imprese compresi istituti di credito di piccole dimensioni saranno obbligati in qualche modo ad andare ad applicare questi indicatori e a rappresentarli quindi tutte le società che supereranno un numero da 10 a 250 dipendenti in media dai 350 mila ai 20 milioni di euro di stato patrimoniale e da 700 mila a 40 milioni di ricavinetti quindi superando due di questi indicatori ci sarà questo obbligo a che cosa serve? Ovviamente a rispettare il criterio di trasparenza a fornire delle informazioni sia ai fornitori sia in realtà a quelli che sono gli investitori perché proprio la Commissione Europea indirizza in quella direzione riuscire a fornire informazioni sufficienti per finanziare soltanto quelli che dovrebbero essere più virtuosi o quella è l'intenzione generale gli obiettivi poi della Corporate Sustainability Reporting Directive sono quelli di garantire informazioni affidabili quindi comparabili sui rischi perché ovviamente l'adozione di questi criteri legati a una mitigazione degli impatti ambientali e quindi di valutazione del contesto deve permettere un confronto tra aziende quindi in qualche modo questi indicatori nonostante non siano indicatori di bilancio come dice l'European Taxonomy , navigator sono comunque indicatori che vengono e possono essere utilizzati per valutare quelle che sono le aziende più virtuose rispetto a quelle che non lo sono in qualche modo dovrebbe portare poi a una premialità di queste aziende di conseguenza molto spesso accade che l'investitore pubblico o privato non abbia elementi a sufficienza l'European Taxonomy in qualche modo attraverso questa direttiva fornisce uno strumento affidabile l'altro elemento legato agli investimenti sostenibili e responsabili riguarda poi il Sustainable Financial Disclosure Regulation che prevede un investimento soprattutto nei trasporti legato all'uso di energie rinnovabili all'adozione e introduzione di nuovi veicoli elettrici o ibridi a una mobilità condivisa di cui normalmente non si sente molto parlare e poi un trasporto pubblico ecologico la strategia di investimento sostenibile responsabile quindi in qualche modo esclude alcuni paesi che non hanno introdotto questi parametri vedremo che ci sono alcuni criteri che in qualche modo sono premianti per chi svolge queste attività e rappresenta gli indicatori rispetto a chi non li mette in pratica anche nel mercato europeo esclude alcuni settori come le armi e i tabacchi dalla possibile applicazione e adozione di questi indicatori e quindi da una premialità associata alla loro valutazione si basa su convenzioni internazionali qui ce ne sono citate alcune l'Ox e l'ONU l'agenzia ONU che sono state messe in pratica anche da GTT nella valutazione delle proprie politiche e poi l'engagement e quindi il dialogo diretto con quelli che sono i portatori di interesse in questo caso gli utenti o i cittadini cosa che precedentemente prima dell'introduzione del GRI3 ad esempio non era considerata tutta la sezione dell'impact in se investing inoltre è organizzata in modo da iniziare a concedere e favorire tutti quelli che sono i prestiti e i finanziamenti anche a tasso zero verso le imprese che tengono in considerazione questi indicatori quindi in qualche modo se il commercialista è abile può riuscire a indirizzare il cliente verso una valutazione corretta dell'azienda proprio per promuovere e incrementare le possibilità di finanziamento a supporto come dicevo vi è l'EFRAG l'European Financial Reporting Advisory Group che è stato incaricato proprio dalla Commissione Europea per riuscire a declinare quelli che sono gli standard da adottare ciò non toglie che i girai soprattutto in un ultimo documento trovino in qualche modo una connessione una possibile applicazione reciproca che in qualche modo in questo documento di connessione viene a evidenziare quelli che sono gli elementi qualitativi e quelli che sono gli elementi quantitativi applicati da uno e dall'altro per poter in qualche modo realizzare un documento univoco l'identificazione di questi criteri come sappiamo per il momento è generica si fonda principalmente su quelli che sono alcuni indicatori puramente ambientali quindi emissione di CO2 inquinanti efficienza energetica innovazione tecnologie verdi per il momento non affronta in maniera approfondita come vi dicevo gli aspetti sociali ma ci saranno poi successivamente degli standard specifici che verranno introdotti per ogni singolo settore quindi quali sono gli elementi che soprattutto sul trasporto pubblico potrebbero essere tenuti in considerazione l'emissione di CO2 ed inquinanti quindi l'EFRAG va a considerare in qualche modo l'attività di trasporto legata alle emissioni quindi indicatori di inquinamento collegati ad anidride carbonica metano protossido di ozono idrofluorocarburri perfluorocarboni e così via efficienza energetica quindi l'EFRAG individua anche degli indicatori di impatto energetico di efficienza energetica che in realtà sono quelli già applicati da alcuni anni dalle banche quindi in qualche modo troviamo l'intensità energetica messa in pratica dalle aziende e che attualmente è stata introdotta anche per tutti gli altri settori oltre che quello bancario e poi innovazione tecnologi verdi che in qualche modo riguardano lo stoccaggio di batterie lo stoccaggio di idrogeno e di energia termica l'utilizzo di nuove tecnologie e di motori innovativi l'OPN Green Deal in qualche modo va anche questo in questa direzione la continuità di quelli che erano gli obiettivi del Green Deal che vediamo come elementi principali sotto viene in qualche modo finanziata anche dal PNRR quindi in qualche modo quelle attività vengono a quelle attività a quelle politiche viene data una continuità dai finanziamenti specifici della Next Generation PNRR in Italia Fit for 55 è quell'obiettivo di cui parlavamo prima quindi l'obiettivo di riduzione delle emissioni questo pacchetto Fit for 55 prevede proprio una riduzione delle emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 con un rinnovo del sistema di scambio di quote di emissione quindi l'introduzione di quelli che erano i certificati proprio legati alle emissioni all'interno della comunità europea questi strumenti vengono inoltre supportati da quello che dicevo il piano di energie rinnovabili ed efficienza energetica con un aumento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili che è orientata al futuro al 2030 per il 40% e che è stata innalzata dal repower european fino al 45% sono state introdotte poi nuove normative legate proprio alla CO2 con un adeguamento del carbonio alle frontiere questo è molto interessante perché proprio il dibattito che c'è in questo momento a livello internazionale è se le aziende che si trovano in Italia e che producono in Italia sono svantaggiate rispetto a quelle che si trovano nel resto del mondo in realtà per l'esportazione questo non è applicabile perché non abbiamo degli strumenti di mitigazione però dall'altra parte quindi sulle importazioni è possibile riuscire in qualche modo ad adeguare mitigare l'effetto che si ha con chi produce in maniera scorretta se così vogliamo dire considerando quelli che sono gli impatti ambientali proprio perché si propone per chi importa per gli importatori quindi aziende straniere di applicare un prezzo al carbonio sui prodotti importati neutralizzando quindi le quote di emissione legate all'energia che normalmente invece vengono pagate direttamente o indirettamente dall'azienda italiana quindi in qualche modo si andrà a creare un mercato dal 2026 proprio per acquistare questi crediti del carbonio anche a un corrispettivo prezzo rispetto alle aziende che producono in Italia neutralizzando quindi questi effetti il repower european proposto nella commissione europea inoltre va in qualche modo a incrementare quelli che sono i livelli di produzione energetica rinnovabile proprio in seguito alla dipendenza energetica e alla crisi dovuta alla Russia e all'importazione di energia elettrica quindi in qualche modo vi sono tre politiche principali legate alla diversificazione dei partner internazionali per l'importazione dell'energia elettrica gli investimenti in energie rinnovabili e poi un efficientamento dell'uso delle tecnologie legato sia a nuove tecnologie applicate direttamente integrate con gli edifici sia nei trasporti dell'industria altro principio come dicevamo prima è quello della The Not Significant Arm che viene sostenuto dai piani nazionali per la ripresa e la resilienza in questi vi è proprio la richiesta ovviamente di applicare tutti quelli che sono i criteri di mitigazione ma andando al punto principale anche quello di investire per almeno il 37% delle risorse complessive in transizione ecologica che in qualche modo portino effettivamente un cambiamento quindi l'accesso effettivo a questi fondi europei è possibile soltanto se vi è quell'investimento incentivante e rispettato all'interno dei diversi progetti che in qualche modo vengono sostenuti dal PNRR quindi questo va a creare un meccanismo che dovrebbe essere in parte virtuoso e che attraverso il PNRR dovrebbe in qualche modo andare a mitigare sia gli impatti diretti quindi quelli generati direttamente dalle aziende sulla società sia quelli indiretti nell'ambiente circostante quindi tenendo in considerazione non solo quelli che genera direttamente con le proprie azioni l'impresa che può essere di trasporti o di un altro settore ma anche quelli indiretti che in qualche modo con ad esempio le assunzioni o con altre politiche va a generare sul contesto circostante altri obiettivi legati proprio quindi a questo principio sono la protezione dell'ambiente per garantire la qualità dell'aria e dell'acqua mitigando i cambiamenti climatici la protezione del benessere umano quindi l'altro I che era stato introdotto ma che ancora non vede dei criteri realmente oggettivi quindi rispetto dei diritti umani salute e sicurezza delle persone giustizia sociale e inclusione quindi aziende che normalmente non si occupano di questo dovrebbero anche orientare all'inclusione sociale ad alcune politiche di mitigazione specifiche e poi sviluppo sostenibile quindi la sostenibilità in ambito economico che è quella portata avanti principalmente prioritariamente in qualche modo dalle banche valutando alcuni criteri come per il momento la l'incidenza energetica ma poi successivamente si sposterà come sta facendo Cassa Depositi e Prestiti e altri istituti nell'individuazione di criteri specifici legati anche al sociale sul PNRR di conseguenza ci saranno dei fondi dedicati ci sono già attualmente dei fondi dedicati che vedono la promozione della coesione e competitività quindi la riduzione di disparità per favorire lo sviluppo equilibrato la ripresa e resilienza essenziale nel periodo di crisi Covid proprio perché la next generation e il PNRR è stato introdotto proprio a causa del Covid e alle limitazioni che questo aveva portato sull'intero mercato con tutto l'effetto che aveva avuto anche sullo sfruttamento energetico la dipendenza energetica con la Russia e la coerenza e il coordinamento con la massimizzazione degli impatti e delle risorse che dovrebbero essere utilizzate all'interno di un contesto che in qualche modo è comunitario ma che molto spesso vede ancora delle diversificazioni riposso la parola al dottor Chiappero ringrazio il professor Biancone e il professor Brescia per averci offerto questo quadro generale di come lo strumento della tassonomia si inserisce in un contesto più ampio dell'evoluzione normativa a livello europeo riguardante la governance e la rendicontazione della sostenibilità come avevo osservato già all'inizio queste politiche riguardano sicuramente la dimensione delle imprese che sono sempre tenute stanno sempre più tenute a dimostrare il rispetto di questi principi ma si inseriscono in un contesto più ampio strettamente connesso a quelle che sono le politiche e gli obiettivi del contesto sociale e territoriale di appartenenza cioè non è un caso che pur parlando di tassonomia ambientale come abbiamo visto tra i requisiti vi è quello comunque di dimostrare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo principio che è stato fatto proprio e mutuato dal PNRR che è uno strumento come è stato molto bene spiegato prima che poi viene attuato dalle pubbliche amministrazioni e nello stesso tempo vanno rispettate le garanzie sociali minime quindi la tassonomia in realtà è vero che si definisce ecosostenibile ma è anche vero che comporta una visione più ampia e olistica di quello che è l'approccio complessivo dell'impresa rispetto ai valori della sostenibilità abbiamo quindi pensato nel proseguire questo nostro pomeriggio di vedere come questo strumento in particolare il taxonomy navigator si declina nel settore dei trasporti ma prima ancora di farlo abbiamo pensato di chiederci come appunto le città possano svolgere un ruolo chiave nel pianificare questo tipo di obiettivo che poi coinvolge anche le imprese e quindi siamo partiti dalla considerazione che le città pur occupando una frazione trascurabile del territorio dell'Unione Europea ospitano i due terzi dei cittadini e sono responsabili di oltre 70% delle emissioni nello stesso tempo le città rappresentano il contesto ideale per la sperimentazione di politiche innovative e di nuovi modelli di convivenza volte al miglioramento della qualità della vita che si declinano non solo nella riduzione delle emissioni come vedremo ma anche nella generazione di impatti positivi sociali ed economici si pensi all'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili finalmente è in aste di partenza a seguito della pubblicazione lo scorso gennaio del relativo decreto attuativo fatta questa premessa passo quindi la parola lasciamo loro lo spazio all'assessora alla transizione ecologica e digitale mobilità trasporti innovazione della città di Torino ingegner Chiara Foglietta grazie assessora e inviterai ad accomodarsi anche l'avvocato Serena Lancione l'amministratore delegato di GTT grazie chiederei quindi in particolare all'ingegner Foglietta come si colla in questo contesto che ho illustrato le importanti sfide e scelte fatte dalla città di Torino con l'adesione al progetto già ricordato prima delle città pilota per l'anticipazione al 2030 degli obiettivi di neutralità climatica ma anche il progetto Mass for Italy finanziato proprio col PNRR nelle logiche che dicevamo prima per lo sviluppo quindi di scenari innovativi di mobilità urbana il tutto in sintonia con i principi del Green Deal europeo e col package Fit for 55 che ne ha anticipato alcuni effetti al 2030 e quindi chiediamo appunto all'assessora come nella città di Torino si è voluto raccogliere questa sfida e come questa si inserisce in questo quadro più ampio di riforme legislative e a seguire vedremo subito come il settore della mobilità e dei trasporti possa dare all'attuazione di questo sistema di Smart Mobility un apporto significativo che qualifichi il territorio in sintonia con questo modello ideale ma raggiungibile che Norman Foster ha definito di città sostenibile grazie assessora grazie a voi dell'invito una domanda mica banale ma avete tutta la serata per rimanere qui allora innanzitutto grazie anche perché non mi chiama ingegnere nessuno quasi da due anni e mezzo sono diventata solo più l'assessora spero sia giusto sì sì assolutamente anzi grazie mi fa sempre molto piacere allora da dove siamo partiti non è fare gli amministratori non è non è facile è un compito spesso ingrato perché se si cerca di rincorrere il consenso spesso si sbaglia traiettoria soprattutto quando tra le tante deleghe che le è elencato io ho anche la qualità dell'aria avere la delega alla qualità dell'aria in una città che è una delle città più inquinate d'Italia e che riesce a battere ogni record di sforamento del PM10 ma anche del PM2.5 e anche dei diossidi di azoto in un periodo in cui piove molto poco e modificare le abitudini trasportistiche delle cittadine e dei cittadini è piuttosto complicato quindi quando uno assume queste deleghe prima di quella ancora di fare l'assessore ai trasporti deve fermarsi a capire che tipo di assessore vuole fare se vuole fare un assessore in cui ricercare solo ed esclusivamente il consenso oppure cercare di migliorare la qualità e la salute come dicevano chi come diceva chi è intervenuto prima di me perché è l'obiettivo fondamentale allora tengo a fare una precisazione rispetto ai fondi sia del PNRR che ci finanziano con 169 milioni di euro il rinnovo dei nostri mezzi di trasporto a cui GTT ha partecipato con Gara che è il fondo complementare del PNRR di ripresa e resilienza con i quali abbiamo ottenuto più di 10 milioni di euro per il progetto Mass for Italy e il Living Lab to Move i 169 milioni di euro e lo dico perché è giusto secondo me alcune cose sottolinearle perché il PNRR in particolare con i 170 milioni di euro di cui vi dicevo prima finanziano i bus quindi finanziano solo i mezzi di trasporto non finanziano però tutto quello che c'è attorno a un mezzo di trasporto cioè l'elettrificazione di un deposito l'elettrificazione di una pensilina perché questo invece è tutto a carico della pubblica amministrazione quindi della città di Torino e dell'azienda che fa il trasporto per conto di città di Torino in questo caso Gruppo Torinese Trasporti e anche un altro appunto nella scelta di andare a comprare quindi di mettere a gara dei mezzi che siano a motore elettrico è stata una scelta politica perché mediamente un bus elettrico costa all'incirca 550 mila euro un bus a metano costa la metà questo ovviamente cosa vuol dire per un amministratore pubblico che avrai a parità di costi la metà dei bus ma lo fai perché l'obiettivo principale è migliorare la vita della qualità e la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini e se poi sei anche a Torino devi cercare anche di guardare ovviamente a migliorare la qualità dell'aria non entro perché non è esattamente proprio il periodo storico in questa città per parlare di qualità dell'aria non me ne vogliate ma sul punto sono piuttosto agitate e ne comprenderete il motivo è chiaro che l'obiettivo principale è quello in una città che ripeto è stata storicamente capitale dell'automotive che con fatica sta cercando di trasformarsi in qualcos'altro e non è necessariamente non deve avere un'eccezione negativa ma è chiaro che nelle scelte politiche questa amministrazione ha ovviamente investito il più che poteva sul motore elettrico diverso è il discorso ovviamente del trasporto privato a fronte non troverete mai una mia intervista in cui dico ai cittadini comprato l'auto elettrica per un motivo molto semplice perché l'auto elettrica in questo momento è cara e i nostri cittadini non se la possono permettere noi riceviamo mail e lettere di cittadini che non riescono a pagare la bolletta di casa quindi difficilmente la città riuscirà a dire cari cittadini compratevi una macchina a motore a motore elettrico ovviamente la transizione ecologica che è anche una delle mie ed è la mia prima delega fa da filo conduttore a tutte le politiche pubbliche che non con poca fatica stiamo portando avanti quello che però mi sento di dire è che le città gli enti locali da sole non ce la possono fare e che la transizione ecologica a parità salariale non potrà pesare nelle tasche dei cittadini quindi oggi parliamo tanto di piano nazionale di ripresa e resilienza di fondo complementare è chiaro che gli investimenti che il governo che le regioni e che anche i comuni devono fare li devono fare proprio perché se il faro è ovviamente la sostenibilità quello che si definisce net zero cities quindi andare verso una città climaticamente neutra non lo possiamo fare lasciando alcuni dei nostri cittadini indietro non lo possiamo fare neanche facendo greenwashing però non lo stiamo più facendo questo lo dico perché quando abbiamo intrapreso il lungo percorso che ci sta portando al più tardi la prossima settimana a deliberare il climate city contract che è un contratto che città di Torino sottoscriverà con la commissione europea alla metà del mese di marzo lo facciamo coinvolgendo tutti i cittadini e l'abbiamo fatto coinvolgendo le società corporate il terzo settore i giovani il Politecnico di Torino l'Università degli Studi di Torino ma lo facciamo perché arrivare e anticipare di vent'anni l'obiettivo dell'abbattimento della CO2 è un obiettivo assolutamente ambizioso ma ci permette anche lo accennava prima il professor Brescia ad avere quella piccola medaglietta che ti permette di accedere a dei finanziamenti in più perché noi otteniamo questa medaglietta di città che in maniera piuttosto pazza e noi gli amministratori locali italiani che hanno partecipato gli altri otto comuni che hanno partecipato insieme a noi a questa call spesso ce lo diciamo ma chi ce l'ha fatto fare perché dobbiamo fare le stesse cose che fanno le altre città a livello europeo peccato vent'anni prima quindi dobbiamo cercare di abbattere la curva della CO2 con vent'anni di differenza rispetto agli altri paesi lo facciamo perché ovviamente quando si è diciamo più coraggiosi un po' più pronti alle sfide questo ci permette anche di raggiungere dei finanziamenti che senza quella medaglietta di cui vi parlavo non riusciamo non riusciamo a raggiungere per il bene dei cittadini assolutamente quello è sempre è sempre primario bisogna anche dire un'altra cosa bisogna secondo me un po' uscire da dal guardare l'ambiente come se fosse una di quelle cose di cui si occupa solo una parte della solo una parte della città l'ambiente è una di quelle cose di cui ci occupiamo tutti è un po' come fare politica anche il modo di vestirsi è fare politica è chiaro che nell'agenda anche del ministro Pichetto io stalkerò ogni giorno perché correga i degredi attuativi delle comunità energetiche rinnovabili non al più tardi di ieri lui si è collegato ad un appuntamento in cui ero in presenza ho ricordato che deve fare una piccola correzione perché se no gli enti locali sopra i 5.000 abitanti non sono in grado di applicare il decreto delle CER devono guardare al benessere delle persone che stanno amministrando è chiaro che applicare come dicevo prima delle politiche pubbliche che hanno come obiettivo finale la salute dei cittadini non è una di quelle tematiche che ti crea consenso quello che io però ho constatato negli ultimi due anni anzi in questi due anni in cui ho l'honore ma soprattutto l'onore di fare l'assessore di questa città è che se prima si parlava molto di green di sostenibilità ma un po' per darsi la madaglietta e quindi fare quel green wash di cui parlavo prima adesso c'è una consapevolezza anche e soprattutto tra le imprese che francamente ci sta facendo capire alla politica quindi sta facendo capire alla politica che la strada ormai è tracciata che gli obiettivi che siano di neutralità climatica che siano di abbattimento del particolato noi sforiamo anche di ossidi di azoto come sapete sono un obiettivo che è comune non solo alla pubblica amministrazione e alle sue partecipate oggi parliamo di trasporti ma sono tantissime le partecipate di città che si stanno anche loro impegnando nel raggiungimento degli obiettivi della sostenibilità ma che attraversa un po' tutte le fasce sociali soprattutto ma tutti i settori della nostra città perché gli obiettivi o li raggiungiamo tutti e tutti insieme oppure difficilmente la pubblica amministrazione ce la può fare da sola quindi grazie anche a voi perché affrontate un tema che non è facile e per un ordine essere impegnate su questi temi davvero un punto di coraggio e di orgoglio di cui dovete andare fieri grazie ringrazio l'assessora per l'ingegnere Chiara Foglietta per le parole anche di apprezzamento verso di noi che stiamo cercando anche grazie all'attività appunto dell'osservatorio di trovarci pronti ecco nell'affrontare queste tematiche anche quotidianamente nel nostro lavoro in particolare ho apprezzato come l'assessore abbia messo in evidenza un disegno di innovazione in chiave di sostenibilità della città più ampio e di come queste strategie siano in sintonia con diciamo le tecniche e i principi della tassonomia che abbiamo visto prima e in particolare osservo come i conseguenti piani d'azione quindi quelli che saranno recepiti in questo climate city contract di cui ci ha parlato in via di predisposizioni in via di approvazione richiedano necessariamente il coinvolgimento di tutti cioè l'assessore diceva non può da sola la pubblica amministrazione arrivare a questi obiettivi e deve necessariamente farlo con l'engagement con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder a partire ovviamente dai cittadini dalle imprese dall'università dai soggetti che poi oggi sono diciamo parte attiva anche di questo di questo evento quest'oggi del sistema degli enti del terzo settore e così via certamente in questo coinvolgimento un parne strategico è rappresentato dalle partecipate e la più importante di queste è sicuramente il gruppo Torinese Trasporti e quindi chiedo all'avvocato Serena Lancione amministratore delegato della società nonché vicepresidente di Astra quale sia il ruolo del comparto del trasporto pubblico locale e in particolare di GTT nell'attuazione di politiche di smart mobility della città che sicuramente hanno un contributo importante rispetto a questi obiettivi più generali che sono stati visti prima e quali contributo l'azienda possa dare secondo le linee guida del suo piano industriale per raggiungimento di questi obiettivi net zero di neutralità climatica visti prima fatti propri dalla città in un contesto europeo grazie avvocato Lancione grazie grazie a tutti buonasera intanto ringrazio l'ordine per l'invito con l'ordine dei dottori commercialisti insomma collaboriamo da diversi anni la mia struttura che qui stasera folta è numerosa è molto preparata che ringrazio collabora da diversi anni con voi anche per la redazione della DNF e diciamo che l'ordine fucina insomma di devo dire di professionisti di altissimo livello che insomma che collaborano con noi e qui stasera vedo la dottoressa Spitale che è presidente del collegio sindacale di Estrato che saluto beh entriamo un po' nel merito nel vivo dell'argomento intanto partirei insomma da una suggestione importante del professor Biancone all'inizio che mi ha molto colpito responsabilità d'impresa fattori esigiti tassonomia sono un adempimento o un'opportunità beh io direi che l'intervento dell'assessore Foglietta chiaramente esplicativo di quello che è questo momento rappresenta la transizione energetica ed ecologica per gruppo torinese trasporti per come la stiamo vivendo e la stiamo affrontando anche con riferimento lo dico ma non perché qui è l'assessore ma perché c'è una responsabilità diretta degli amministratori e soprattutto di chi come l'assessore Chiara Foglietta in questo caso la chiamo assessore è assessore alla mobilità dei trasporti ma anche alla qualità dell'aria allora voi capite che in questo momento il tema anche della responsabilità insomma penale anche degli amministratori che tocca ci tengo a dirlo poi tu fai i tuoi scongiuri ma questo questo per dirvi quanto tutto ciò tocchi sulla pelle delle persone che sono anche sedute sulle nostre sedie che insomma sono impegnative e forse a volte anche non tanto comode e quindi l'approccio è un approccio di responsabilità sicuramente un approccio che non può non essere quello di valutare davvero l'opportunità che queste norme che poi diventeranno cogenti anche insomma per noi lo sono perché sono stata una scelta noi abbiamo fatto una scelta importante e quindi stiamo già applicando di fatto tutte queste queste normative e che ci consentono davvero di avere un po' il polso anche diciamo di quello che sarà poi l'evoluzione del insomma per il settore trasporti diciamo della 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 gastronomia applicata al nostro settore inizierei avevo preparato qualche slide giusto per inquadrare se per chi non sapeste insomma che siamo una società per azioni a totale partecipazione pubblica noi siamo controllati da dalla società FCT Holding che insomma è la società finanziaria di di città e abbiamo un organico di circa 4.000 dipendenti operiamo appunto nel settore del trasporto pubblico locale trasporto pubblico urbano estraurbano e metropolitano ecco due numeri giusto per inquadrare diciamo il nostro servizio noi abbiamo una flotta di circa un migliaio di autobus di circa 750 bus per il servizio urbano di Torino e 250 per il servizio estraurbano 58 sono i treni della Val 2008 che sono attualmente adibiti al servizio di metro 1 e 176 sono i tram della flotta tramviaria di Torino le nostre corse giornaliere sono circa 13.000 di cui 1988 sono quelle solamente estraurbane 550 sono le corse giornaliere della metro che cosa stiamo facendo beh intanto stiamo lavorando con il comune su quattro filoni tematici importanti che riguardano diciamo l'esercizio e che sono anche intimamente connessi insomma al nuovo disegno del rilancio del nuovo trasporto Torino che è legato poi anche diciamo alla parte del rinnovo della flotta degli investimenti sull'elettrico in particolare stiamo lavorando come sapete sul prolungamento della linea 1 della metropolitana fino a Cascinevica stiamo facendo un lavoro molto importante per il potenziamento del sistema tramviario attraverso diciamo l'estensione della rete e anche di nuovi percorsi abbiamo introdotto grazie appunto alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza una nuova tipologia di bus che si chiama BRT bus rapid transit che dal 2025 transiterà anche finalmente nella nostra città e che è sostanzialmente un autobus elettrico 18 metri che livreato assomiglia molto a un tram ma che ha diciamo non ha tutta la pesantezza il costo di un tram in quanto non ha un'infrastruttura ma è un bus su gomma che viaggia però su corsie preferenziali protette e a seconda diciamo del livello di protezione che viene dato riesce a ottenere una velocità commerciale sempre più performante rispetto anche agli obiettivi che città ci ha dato su questo stiamo lavorando abbiamo lavorato insomma e ringrazio l'assessore perché inizieremo molto presto quindi li vedrete su linea 5 la linea 5 è una linea che per anni è stata una linea molto devastata che arriva fino a Beinasco e che attualmente è gestita con delle autobus bisarche 18 metri che risalgono agli anni 2000 ma che finalmente da qui avverò similmente ad aprile arriveranno 18 autobus nuovi a settembre altri 40 questo ci consentirà di unire l'azione quindi dell'utilizzo di autobus 18 metri a metano in questo caso linea 5 è una linea che verrà esercita con autobus a metano e il tracciamento di corsie preferenziali e l'installazione di telecamere di avere davvero un trasporto che possa diventare competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto privata e quindi come dire la prima scelta che il gruppo Torinese Trasporti fa in termini ambientali è quella di diciamo ritenersi e diventare soprattutto una valida alternativa all'utilizzo dell'auto privata a prescindere dalla tipologia di alimentazione perché non ci dimentichiamo che insomma il trasporto pubblico locale inquina per il 10% rispetto a quello che è riscaldamento e l'utilizzo delle auto private quindi come dire per il primo gol di gruppo Torinese Trasporti ed è legato a un'intensa attività che stiamo facendo appunto con città grazie al supporto dell'assessore è proprio quello di cercare di puntare molto davvero sulle corsie preferenziali e le priorità semaforiche unitamente alle telecamere perché questo consentirà davvero di avere la possibilità di essere competitivi rispetto innanzitutto all'auto privata quindi questa è già una scelta ambientale che se ne dica perché combatte comunque le emissioni di carbonio rispetto all'utilizzo dell'auto privata è un primo step uno step di base ma uno step in cui io personalmente credo molto poi siamo sicuramente andando a lavorare per migliorare la rete perché la rete è una rete comunque che insomma ha bisogno di essere anche declinata secondo le nuove realtà secondo un secondo direttrice origini e destinazione dove rispetto ai grandi flussi di traffico che non sono più quelli di venti anni fa o di quarant'anni fa si orientano studenti, cittadini e lavoratori e quindi per fare questo stiamo cercando anche di ragionare su una rete prioritaria urbana di superficie che possa essere diciamo insieme alla linea metropolitana 1 e la linea metropolitana 2 un po' il punto di forza su cui lavorare intensamente per cercare di trovare anche di dare quelle frequenze alle linee di superficie che chiaramente sono più difficili da mantenere perché quando vi parlo di importanza anche dell'infrastruttura che segua diciamo gli investimenti fondamentali perché solo in questo modo riusciremo a garantire quelle frequenze soprattutto in un momento come questo dove la canterizzazione di Torino arriva appunto da un arinone in comune dove mediamente insomma gli interventi a livello mensile sono circa 150 perché il PNRR ha portato diciamo risorse che impattano direttamente sulla città su qualsiasi tipologia di attività quindi ci sono cantieri ovunque e questo diciamo se è un bene perché Torino cambia e la città va veloce è anche vero che in questo momento i cittadini comunque vanno a lavorare si spostano e quindi i disagi esistono bisogna cercare di minimizzarli ecco entrando invece un po' nel merito dell'argomento di oggi il rinnovo della flotta bus attraverso le risorse del PNRR e non solo ecco qui vedete la scelta di campo che è stata effettuata da questa amministrazione e dal gruppo Torinese Trasporti per quanto riguarda la tipologia di alimentazione stiamo parlando di un investimento che va ben oltre i 250 milioni di euro solo per quanto riguarda il sistema dei bus che parte diciamo già precedentemente dalla gara PNRR perché la scelta di virare sull'elettrico è stata fatta da GTT e ha diciamo portato a una prima infrastrutturazione del deposito del gerbido ma adesso in maniera massiccia totale su tre depositi Nizza San Paolo Veneria che saranno totalmente infrastrutturati per garantire da qui al 2025 perché noi come non ricordo chi l'ha detto abbiamo anche questa scadenza che è perentoria nel senso che noi entro il 2025 abbiamo già sottoscritto i contratti con i Vecobus e le linee di produzione sono iniziate dovremmo per forza avere le consegne di tutti questi veicoli affinché la città di Torino possa avere il finanziamento da parte dell'Europa qui che cosa sottolineerei beh sottolineerei intanto un tema importante che nessuno coglie di nuovo è stato colto e ti ringrazio Chiara sul tema dei costi della transizione di cui nessuno parla la città sta affrontando insieme a GTT un cambiamento colossale noi per iniziare questa cantierizzazione e l'ingegnere Gaudiello insomma ve lo racconterà ancora più approfonditamente abbiamo iniziato due anni fa a fare delle esplorative dei carotaggi perché noi andremo anche a installare pantografi in linea in servizio un po' come nelle più grandi città europee per cui avremo delle infrastrutture di ricarica importanti diciamo negli hub più strategici della città e quindi questo cosa significa che sostanzialmente è stato fatto un investimento in termini di progettazione di investimento dell'infrastruttura che la città e la società hanno scelto di caricarsi perché appunto la scelta sull'elettrico è una scelta io credo a mio avviso in questo momento del mercato anche diciamo rispetto all'evoluzione dell'idrogeno la scelta migliore che si potesse fare in questa fase e che quindi consentirà all'azienda di arrivare da qui diciamo fine 2025 ad avere l'80% della flotta del gruppo Torinese trasporti totalmente elettrico quindi accanto alla scelta di campo legata appunto a uno dei pilastri di cui parlavano prima parlava il professor Brescia sui trasporti l'altro grande pilastro su cui abbiamo lavorato è quello appunto anche dell'autoproduzione di energia noi abbiamo fatto una scelta importante in autofinanziamento quindi non solo infrastrutturazione quindi un totale cambio di pelle per quanto riguarda una società che da sempre ha dei depositi che sono sostanzialmente degli hub dove vengono come dire ricoverati i mezzi e vengono poi forniti di gasolio ma diventeranno delle vere e proprie stazioni anche di ricarica e di autoproduzione quindi noi abbiamo progettato quindi abbiamo chiuso diciamo la fase di progettazione abbiamo già come dire individuato il progettista per gli impianti di autoproduzione di energia elettrica e quindi da qui insomma nel giro di un mese inizieremo a bandire le gare per l'autoproduzione di energia nei nostri depositi e anche nel diciamo nella stazione della metropolitana di Fermi questo che cosa significa che la scelta è una scelta di diciamo parziale autonomia quindi cercando intanto quindi è nell'attesa e nella speranza che questo decreto sulle comunità energetiche diventi attuativo e ci consenta perché noi abbiamo veramente tutta la capacità di mettere a terra la potenza e l'opportunità che insomma darebbe effettivamente per noi il decreto sulle comunità energetiche perché noi rappresentiamo di fatto una comunità energetica e nel frattempo quindi la scelta industriale fatta dal consiglio di amministrazione con il mio ingresso è stata anche quella di virare anche su una parziale autoproduzione anche per evitare diciamo avere un piano B e evitare situazioni anche in cui ci potessero essere dei cali di tensione importanti della città perché non ci dimentichiamo che comunque tutto questo per la città di Torino significa un impatto devastante nei quartieri che avranno comunque questo scarico quindi questa richiesta di potenze così impattanti e che quindi noi in qualche modo dovremmo anche gestire governare attraverso l'autoproduzione di energia ecco qui una rapida slide sui BRT mi piace fare vedere questa immagine perché è il futuro ma non più tanto lontano noi abbiamo scelto questi bus che hanno diciamo tutta la possibilità di cambiare anche un po' soprattutto quando vi dicevo linee di forza a lungo raggio sono delle linee dove sicuramente come linea 2 diventeranno un po' degli assi penetranti e portanti della città che se utilizzati al meglio come viene fatto nelle principali capitali nel nord Europa ci consentiranno davvero di non avere diciamo concorrenza rispetto all'auto privata perché avremo diciamo dei canali protetti e preferenziali che ci permetteranno di scorrere è un'infrastruttura dedicata molto leggera e questo è il grande valore aggiunto di queste nuove diciamo soluzioni qui diciamo che la soluzione tramviare è una soluzione su cui lavoriamo anche tanto una soluzione che in termini infrastrutturali ha degli impatti dei costi devastanti perché insomma costi che vengono decuplicati perché qui sostanzialmente voi immaginate il costo insomma del tracciamento delle linee della segnaletica delle corsie preferenziali rispetto ai tempi di realizzazione e ai costi di un'infrastruttura tramviaria che comunque hanno anche degli impatti definitivi anche poi sulle sorti di una città e sull'evoluzione di una città perché quando poi si traccia una linea tramviaria in qualche modo si anche lega un po' si legano un po' le sorti anche di una città dell'evoluzione anche industriale sociale diciamo della stessa città a quella a quell'infrastruttura ecco qui queste saranno le infrastrutture ubicate per la transizione energetica su cui abbiamo lavorato diciamo lacrimente con il comune che saranno ubicate principalmente in piazza Caio Mare in piazza Soffia in via Arto in via Corradino in via Marsiglia e Porta Susa questo è a mio avviso solo l'inizio ma vi dà l'idea di quello che è davvero un po' il cambiamento e la mutazione che che GTT sta affrontando e che presto finalmente riusciremo a far vedere anche a tutti i cittadini altro pilastro portante diciamo della transizione green è legato al rinnovo della flotta tramviaria noi abbiamo circa 180 tram andremo a dismettere anche un po' malincuore insomma per i più affezionati le 2008 sono i tram gialli quelli che insomma scusate i tram arancioni e perché hanno fatto il loro corso perché hanno anche diciamo non una facile accessibilità soprattutto rispetto ai disabili e diciamo ai soggetti categorie deboli abbiamo acquisito questa flotta che stiamo mettendo in linea delle serie 8000 ai TACI in questa diciamo un grande passo di transizione green perché i tram per definizione sono da sempre tram quindi rappresentano un po' l'emblema diciamo dell'alimentazione elettrica li stiamo mettendo in linea con un'emissione collaudi che vanno che viaggiano abbastanza veloci qui dovremmo essere diciamo a mettere i primi 30 in servizio entro marzo aprile e poi altri 40 che sono in produzione e che verranno diciamo consegnati dai TACI messi in servizio entro gli ulteriori 12 mesi quindi questo per dirvi che è fatto pari a 100 anche la flotta tramviare di gruppo torinese e trasporti oltre il 50% della flotta anche qui nel giro di brevissimo tempo 2025 sarà totalmente nuova ultima slide per non tediarvi importante rispetto a quello che è stato detto e cioè il tema proprio della composizione della flotta di quello che siamo lo vedete in questo momento in grigio rappresentato dal gasolio il verde dal metano e l'azzurro dall'elettrico ecco questo è quello che siamo e quello che saremo invece lo vedete altrettanto rappresentato nella torta e questo è diciamo un percorso che a mio avviso non finisce qui perché chiaramente l'obiettivo di gruppo torinese e trasporti è quello già di studiare e guardare anche attraverso l'innovazione all'idrogeno soprattutto per le linee a lunga percorrenza quello che vedete ancora diciamo sostanzialmente in verde in metano a livello europeo insomma è molto dibattuto insomma che possa essere considerato effettivamente un'alimentazione ecologica di fatto non lo è non lo sarà soprattutto il metano blu e quindi noi stiamo ragionando soprattutto per quanto riguarda quella fetta che vedete rappresentata ancora quel 14% in verde e anche diciamo gli euro 6 extraurbani che sono in questo momento gasolio per la transizione all'idrogeno transizione all'idrogeno che impone sicuramente un'attività ancora di ricerca e sviluppo importante soprattutto per quanto riguarda direi soprattutto i depositi e quindi tutto il sistema della sicurezza legato all'approvvigionamento dell'idrogeno ma credo che insomma non staremo lontani e quindi in linea insomma con l'emissione della flotta elettrica e pronti per affrontare la sfida dell'idrogeno l'ultima slide che non ho ma sempre una suggestione professore interessante su cui stiamo lavorando è quella legata anche insomma all'impegno che il gruppo Torinese Trasporti ha rimesso anche insomma nelle politiche sociali diciamo di attenzione nei confronti dei dipendenti voi sapete che questa è una società il professor che però lo sa insomma ho ereditato una situazione non facile ma direi che l'abbiamo ripresa in questo momento e monitorata abbiamo un forecast che chiude in positivo e il piano industriale che è stato ripreso e anche come dire assolutamente riaggiornato alla luce di tutti questi importanti investimenti risorse ma anche come dire strategia che ci porterà sicuramente fuori da questa situazione e tutto questo è stato fatto anche attraverso diciamo un'importante politica insomma di assunzioni che stiamo ponendo in essere perché abbiamo assunto da quando sono entrata circa 159 autisti abbiamo altre 100 persone insomma tra personale viaggiante e personale meccanico che insomma entreranno a far parte di gruppo torinese trasporti e insomma la mia più grande gioia è anche quella di essere uscita con compagna di San Paolo e insomma la fondazione Lynx ad avere insomma un progetto per far entrare 10 ingegneri che seguiranno diciamo i progetti quindi la transizione elettrica alcuni la transizione verso l'idrogeno la guida la guida autonoma e infine il quarto gruppo di lavoro che seguirà anche il progetto del retrofittaggio cioè della possibilità che la flotta residuale di autobus a gasolio Euro 6 possa essere in quanto non avendo ancora consumato la vita utile del mezzo perché sono autobus che hanno ancora 10 anni di vita possano avere un processo di retrofit e quindi possano essere utilizzati come autobus a combustione a idrogeno quindi di questo vado molto fiera perché sicuramente la società esce da un momento anche buio di crisi che insomma partiva dalla crisi legata al bilancio e che poi si riverberava anche poi sul servizio è chiaro che dobbiamo ancora lavorare molto sulla qualità del servizio su questo ne siamo consapevoli e stiamo lavorando molto su questo perché sicuramente anche la transizione digitale non è da trascurare perché non possiamo più permetterci insomma di trascurare anche la parte legata alla bigliettazione al fatto che si passi direttamente all'acquisto di tutti i titoli di viaggio tramite le app e quindi saltando addirittura bypassando le carte di credito andando direttamente insomma su tutti i sistemi grazie ringrazio moltissimo l'avvocato Lancione per il suo intervento di cui ho colto due aspetti particolari cioè uno che le cose che lei ha illustrato con l'aiuto delle slide che ci hanno dato un'indicazione anche visiva di quello che è il futuro ma un futuro raggiungibile di questa evoluzione verso la sostenibilità ma anche nell'ultima slide che non c'era ma che lei ci ha descritto sono un po' idealmente l'introduzione di questo documento societario che è la dichiarazione non finanziaria che poi andremo a vedere più nei dettagli nella parte finale del convegno di oggi e questo per dire che in una società pubblica le politiche di sostenibilità e quindi l'adozione di programmi come quelli che ci sono stati illustrati quest'oggi vanno nella direzione del rafforzamento del governo societario e questo è anche un requisito della disciplina specifica del test unico partecipate che richiede alle società pubbliche di andare in questa direzione e di rappresentarlo anche nel sistema dei documenti finanziari di esercizio in particolare penso alla relazione di governo societario che viene pubblicato insieme al bilancio e la dichiarazione non finanziaria che vedremo dopo va proprio in questa direzione quindi ringrazio ancora moltissimo per questo intervento e partendo proprio dalla considerazione che ho appena fatto e che ha fatto anche l'avvocato Lancione su come appunto la governance sia influenzata da questi temi attraverso ad esempio lo sviluppo delle competenze molto importante quello che lei ha detto sulla acquisizione di competenze specifiche per gestire queste tematiche in azienda ecco io vorrei sottolineare come il nostro osservatorio abbia anche dato molto importanza proprio al tema della governance perché il osservatorio costituisce un luogo di sinergia tra i diversi gruppi di lavoro che nel nostro ordine si occupano di queste tematiche e in particolare vorrei segnalare che il dottor Paolo Vernero a cui chiederei di venire qui al mio posto per fare un piccolo intervento presiede una commissione che a livello nazionale quindi del nostro consiglio nazionale dei dottori commerciativisti esperti contabili ha realizzato un importante lavoro proprio sugli effetti che i temi della sostenibilità hanno sulla governance e sulla finanza aziendale in questo modo così il dottor Vernero che è coreferente dell'osservatorio potrà portare il suo saluto poi riprenderò la parola per introdurre la parte finale del convegno in cui entreremo nel dettaglio della dichiarazione non finanziaria di GTT ma intanto grazie è un'occasione anche per portare il saluto del consiglio dell'ordine insieme agli altri colleghi del consiglio presenti come coreferente dell'osservatorio devo dire che serate come queste sono estremamente positive ringrazio chi è intervenuto l'osservatorio nasce sulla base delle istanze che ha riferito Testè Giuseppe Chiappero con la collaborazione di tutti i gruppi che si occupano di questo tema cioè del tema della sostenibilità il supporto essenziale del Dipartimento Valtarcantino con i suoi docenti il nostro gruppo giovani e via via il nostro obiettivo è da un lato quello di seguire l'evoluzione della normativa che è veramente repentina e estremamente anche densa e dall'altro di ascoltare come oggi fa veramente piacere sentire dire che GTT sta uscendo dalla situazione in cui si trovava e quindi anche complimenti perché l'attività manageriale che noi seguiamo dal di fuori che state svolgendo si vede e quindi è anche giusto ogni tanto dirlo ecco noi come i torinesi io mi ricordo tanti anni fa non avevamo una delle aziende partecipate inutile poi pian piano molte delle aziende partecipate anche grazie a fusioni quotazione e quant'altro oggi sono delle eccellenze rimaneva questa situazione di GTT vedere che oggi state uscendo grazie a un'attività innanzitutto manageriale di chi la guida è importante quindi dicevo l'altro profilo del nostro osservatorio è seguire da aspetti concreti cioè la messa a terra poi della sostenibilità e dei fattori ESG in questo contesto sono stato chiamato a presiedere la commissione nazionale del nostro consiglio nazionale che si occupa di governance e finanzia in relazione agli impatti sulle imprese dei fattori ESG e della sostenibilità e da torinese col metodo Torino ho chiesto ad alcuni colleghi docenti e lo stesso Giuseppe di far parte del comitato scientifico o utilizzando documenti importanti come quello che è stato realizzato dal nostro gruppo banche partecipano con un'attività molto rilevante anche il nostro gruppo giovani e evidentemente questo fa sì che questo documento che uscirà nei prossimi giorni perché è di 150 pagine quindi il suo edit è un po' complicato rappresenterà un po' la summa del pensiero dei commercialisti in un inizio di percorso che va proprio su questi due binari sicuramente promuoveremo non appena sarà pubblico un evento nazionale che partirà probabilmente proprio dalla città di Torino e poi ne faremo altri in varie realtà io non rubo altro tempo vi ringrazio e complimenti per veramente una bellissima giornata molto interessante mi scuso se dovrò assentarmi prima della fine ma cercherò di rimanere il più possibile grazie bene ringrazio il dottor Bernero per il suo intervento e a questo punto direi che in perfetto orario sulla scaletta che ci eravamo proposti iniziamo la parte del pomeriggio che dedichiamo al case history di GTT in realtà abbiamo già parlato di questa azienda con la voce del suo amministratore delegato per quanto riguarda appunto gli aspetti strategici e per quanto riguarda il processo che abbiamo visto prima di rinnovo delle flotte ora entriamo appunto più nel dettaglio perché come vi ho anticipato nella nella premessa noi abbiamo fatto in modo che si creasse attorno alle politiche di sostenibilità di GTT un progetto che ha messo in rete i dottori commercialisti il dipartimento di management Walter Cantino e l'azienda questo appunto perché siamo convinti che con questa sinergia abbiamo potuto favorire ecco lo sviluppo di questi processi nella nella giusta nella giusta direzione quindi io passerei la la parola al dottor Davide Barberis il quale nel presentarsi il case history di GTT illustrerà il quadro logico di questo progetto per poi sentire come abbiamo anticipato i rappresentanti del management societario che ci illustreranno come la tassonomia ovvero il fil rouge di questo nostro incontro influenzi in chiave di analisi verticale dei fattori IRG la governance i processi e la rendicontazione di sostenibilità della società grazie Davide grazie a te Giuseppe grazie a tutti voi per l'attenzione che ci prestate è assolutamente importante per il nostro ordine affermare che la sostenibilità è un tema centrale delle competenze del commercialista in realtà se ci pensate il legislatore europeo avrebbe potuto togliersi il problema inserendo una norma sulla qualità con uno standard tecnico e imponendo alle imprese determinati ambiti di attività dal punto di vista produttivo in realtà si è creato un movimento molto più complesso un movimento che ha visto l'intersezione fra l'attività della finanza l'attività normativa e l'attività amministrativa coniugata all'attività operativa tutto questo per ottenere che cosa? Un cambiamento di cultura come diceva Giuseppe Buonocore prima e questo ha riconoscimento della lungimiranza dei giovani il percorso è quello che chi fa impresa chi fa chi svolge attività economiche deve avere un approccio nuovo e in quest'ambito si può pensare che in un giorno futuro quando si andrà in banca a presentare i nostri documenti amministrativi non solo dovremo rappresentare l'avanzo o la perdita di gestione non solo la posizione finanziaria netta ma magari anche il turnover il capex e l'opex delle attività abilitanti e quindi come dire cambierà il mondo e noi in qualche modo guardiamo al futuro il nostro ordine ha cercato di guardare al futuro creando un modello che permettesse a tutti i commercialisti di affrontare questo tema la CSRD impone la revisione e impone che i revisori acquistino competenze specifiche rispetto alla dimensione della sostenibilità noi guardiamo questo ambito professionale con una logica di lavoro perché per noi è lavoro e il lavoro deve essere fatto di competenze ma anche di adeguati supporti a coloro ai quali ci rivolgiamo in questa logica abbiamo elaborato il metodo ODC e Citorino per il bilancio sociale di sostenibilità che ha come punto nodale quello di permettere al commercialista di legarsi con lo spin-off universitario in modo da coniugare le competenze professionali la qualità di revisore alla qualità scientifica dell'università e in questo ringrazio GTT ringrazio anche Giuseppe Chiappero perché allora era il presidente del collegio dei revisori e quindi si è fidato della collaborazione ringrazio l'avvocato Lencione che ha continuato questo percorso perché noi vogliamo dire che siamo in grado di affrontare questa sfida noi insieme all'università riusciamo a affrontare una sfida che porterà un cambiamento radicale nelle dimensioni dell'agire imprenditoriale e delle attività economiche e questo è il nostro metodo ODC e Citorino per il bilancio sociale di sostenibilità che cosa ci siamo dati nel nostro protocollo d'intesa dei protocolli specifici analizzare la direttiva europea 852 2020 sulla tassonomia identificare i processi gestionali di GTT c'è un bellissimo una bellissima rappresentazione della dottoressa Sanfilippo su quelli che sono i processi gestionali come impatta la sostenibilità in questa dimensione sviluppare un framework che ci permettesse di monitorare e gestire l'attività amministrativa condurre una ricerca applicata con il dottor Brescia sotto legida del professor Biancone il professor Brescia scusa e sotto legida del professor Biancone per poter governare la dimensione scientifica e poi fornire formazione e qualificazione rispetto alla tassonomia i risultati attesi erano un sistema di tassonomia sostenibile implementato con successo all'interno di GTT pubblicazioni e ricerche scientifiche e momenti di divulgazione come queste in qualche modo stiamo riuscendo a raccontarvi quello che abbiamo fatto nella speranza che non sia un caso isolato ma che sia un caso che diventa una prassi per tutti coloro che vogliono svolgere questa attività guardando al futuro perché il modello è legare il tecnico che ha una dimensione particolaristica all'amministrativo che parte dal piano industriale e l'architetto Gaudiello è stato interlocutore importante in questa dimensione perché rileggere il piano industriale di GTT alla luce della sostenibilità è stata un'impresa non facile che ci ha legato e che ci ha permesso di comprendere quella che era la visione complessiva quindi integrare la visione puntiforme con la visione amministrativa dando un quadro d'insieme che potesse essere rappresentato e su questo un po' dobbiamo ancora lavorare perché la comunicazione diventa un aspetto fondamentale bisogna comunicare alla cittadinanza a tutti i fornitori a tutti gli stakeholder o anche quelli che io definisco need holder cioè quelli che hanno un bisogno più forte di dialogare con questa realtà quelle che sono le dimensioni il processo evolutivo e quello che l'avvocato Lancione ha rappresentato prima sul percorso evolutivo di GTT e quindi dire che noi guardiamo al futuro con una speranza vi sono i mercanti del dubbio quelli che dicono che tutto questo si risolverà in nulla e a questi diciamo che in realtà noi abbiamo visto cose che non pensavamo di vedere abbiamo visto le crisi epidemiologiche siamo in una epoca bellica e nessuno pensava che ci fosse una guerra così vicina abbiamo visto periodi di siccità il mondo sta cambiando e questa deve essere una consapevolezza che abbiamo tutti tutti coloro che svolgono attività economiche per poter cercare di cambiare non penso che le attività di mitigazione riusciranno nel breve ad attuarsi perché il problema è che il sud del mondo non è così d'accordo a rinunciare a un certo tipo di economia quando noi l'abbiamo praticata per un tempo e quindi le attività di adattamento ci aiuteranno a far fronte e forse dovremmo anche rivedere un po' quelli che sono i parametri di gestione sostenibile del futuro però la battaglia la guerra la sfida va vissuta e va vissuta cercando di comprendere quelle che sono le dimensioni fondamentali le attività che possono essere elegibili allineate in transizione abilitanti non è facile non è facile comprendere non è facile comprendere questi termini e calarli dentro una dimensione come quella di GTT ben lo sa la dottoressa Travaglini con cui abbiamo discusso in cui abbiamo cercato di rileggere il bilancio anche alla luce di standard contabili che forse sono un po' da declinare rispetto a queste dimensioni abbiamo cercato conforto in altre realtà e questo dialogo l'abbiamo costruito e continuiamo a praticarlo perché soltanto attraverso una visione allargata riusciremo a rileggere un mondo che cambia la Banca d'Italia nel suo documento aspettative di vigilanza sugli aspetti climatici e ambientali ci dice che un modello di crescita sostenibile si basa sulla prima integrazione dei fattori ambientali sociali e di governance quindi una visione nuova rispetto al governo dell'impresa e noi ci siamo noi ci siamo siamo in grado di affrontare questi temi è un'attività complessa io quando sento parlare Giuseppe Chiappero un po' mi stupisco perché Giuseppe Chiappero è bravo studia e sa rappresentare in modo semplice strumenti cioè dimensioni veramente complesse e in continuo cambiamento però questa realtà deve diventare la realtà di ciascun commercialista chiudo richiamando un documento della Sonime che oggi ci parla delle criticità che ci sono rispetto a questa direttiva sulla sostenibilità perché dobbiamo pensare che le imprese devono cominciare a pianificare ed è un cambiamento fondamentale siamo abituati a guardare al passato e invece diventa fondamentale la pianificazione il business plan il piano industriale e lì devono risiedere le intenzioni di sostenibilità perché chi controlla può controllare l'esistente soltanto se è in grado di guardare a come la governance la dovuta diligenza noi parliamo di dovuta diligenza è una direttiva che deve ancora uscire ma che è fondamentale le linee guida OX che GTT ha adottato nel suo documento anche con una spinta gentile da parte del nostro ordine dicono questo dicono che chi governa deve essere in grado di pianificare e questo non è semplice bisogna risolvere alcuni impasse ad esempio la tutela delle informazioni sensibili perché è difficile raccontare i propri rischi raccontare i propri modelli di business in un mercato competitivo il decreto 258 2016 permetteva in determinate occasioni di omettere determinate informazioni questo non è stato recepito nella CISARDI e quindi forse bisognerà imprementare alcune dimensioni la responsabilità dell'organo amministrativo se ne parlava prima ed è una responsabilità che deve essere coniugata rispetto alla catena di fornitura perché una cosa è raccontare ciò che fai una cosa è raccontare ciò che fanno gli altri e ti dichiarano quali sono le dimensioni di responsabilità e quando un mondo è così complesso come una realtà come quella di GTT qual è la responsabilità a cui è chiamato chi amministra e chi controlla e quali sono i ruoli all'interno di questa realtà su cui dobbiamo cominciare a riflettere e poi come dire le nuove frontiere della revisione contabile anche su questo dobbiamo andare a riflettere allora io penso che per noi ci sia molto da fare guardandolo in modo professionale definendo un parametro fondamentale quello di cui parlo spesso con la dottoressa Sanfilippo il tempo il tempo è fondamentale ci vuole tempo per fare questo ci vuole tempo professionale ci vuole sicuramente l'impegno è tanto però ci vogliono adeguate risorse destinati a questi ambiti in un momento in cui le risorse un po' vengono a mancare allora insieme io penso che giocheremo questa sfida alla luce del metodo o di CEC per il bilancio sociale di sostenibilità grazie a GTT grazie Davide per il tuo intervento invito ad accomodarsi i rappresentanti di GTT come vi ho anticipato entriamo più nel dettaglio di quella che è l'esperienza il case history che ci porta quest'oggi GTT relativamente al bilancio di sostenibilità che come era stato detto viene redatto sotto forma di dichiarazione non finanziaria passo quindi la parola all'architetto Salvatore Gaudiello a conferma di quanto vi dicevo del fatto che la sostenibilità incide sulla governance delle società e vediamo anche oggi dalla partecipazione diversificata di diversi settori aziendali che sono coinvolti ma non solo questi su questo documento l'architetto Gaudiello è responsabile dell'area qualità ambiente sicurezza ed energia di GTT e sarà lui ad iniziare questa presentazione che sarà poi seguita dalla dottoressa Garevella Sanfilippo esponente del medesimo settore aziendale ed infine dalla dottoressa Maria Teresa Travaglini responsabile del controllo di gestione ci illustreranno attraverso il racconto della dichiarazione non finanziaria come GTT si pone rispetto a questi obiettivi che ricordava prima il dottor Barberis di ammissibilità e di allineamento e del relativo raccordo con gli indirizzi del piano industriale grazie architetto grazie a lei dottor Chiappero grazie a tutti per averci dato la possibilità di condividere con voi la nostra esperienza e vorrei partire da questo concetto riprendendo le parole del nostro amministratore delegato è il veramente il trasformare un adempimento in un'opportunità come si anticipava prima che anticipava il dottor Biancone e così è stato per noi ma perché e soprattutto come siamo riusciti a farlo grazie proprio al contributo che ci è stato offerto grazie all'aver siglato un protocollo di collaborazione istituzionale con l'università degli studi il dipartimento di management Walter Catino e l'ordine dei commercialisti quindi il professor Brescia il professor Biancone il dottor Chiappero e il dottor Barberis perché non è un percorso semplice sicuramente ci va coraggio soprattutto nel prendere certe decisioni e poi ci va la forza la volontà e il lavoro per poterle mettere a terra perché le idee sono fantastiche fin quando rimangono magari nella testa di qualcuno scritte su un documento la sfida più importante che stiamo affrontando in questo periodo è il voler mettere a terra nei tempi come diceva prima la dottoressa Lancione definiti dal PNRR se no si rischia veramente di perdere i fondi e questa è una cosa che non si può permettere nessuno e soprattutto noi vorrei partire e condividere con voi quello che è stato il nostro percorso quindi l'evoluzione della rendicontazione in GTT noi partivamo poco prima degli anni 2000 venivamo erano redatti il bilancio ambientale e il bilancio sociale poi nel 2008 questi due documenti sono stati uniti pubblicando il bilancio di sostenibilità e nel 2019 su base quindi redatta su base volontaria è stata poi redatta la dichiarazione non finanziaria quindi non era un obbligo non eravamo obbligati questo documento veniva approvato contestualmente al bilancio di esercizio che cosa succederà però come si anticipava prima che dal 2025 tutti gli elementi e le dimensioni legate ai temi ESG dovranno essere affrontati all'interno della relazione sulla gestione e quindi dovrà essere pubblicato il report di sostenibilità che dovrà affrontare sia i temi finanziari che tutti quelli relativi alla sostenibilità ambientale ed anche sociale questo sulla spinta della direttiva CSRD che nel modificare l'accounting directive si pone l'obiettivo di dare maggiore rilevanza ai temi ESG imponendone la rendicontazione all'interno della relazione sulla gestione prima si parlava di piano industriale ecco non è stato difficile anzi perché tendenzialmente il tema della sostenibilità è stata la bussola che ci ha governato proprio nella relazione del piano industriale i temi solo per condividerli con voi sulle dimensioni ambientali non voglio ripetermi perché il nostro ministro delegato prima vi ha raccontato quali sono gli impegni in termini di rinnovo flotta e di riduzione delle emissioni sulla parte invece della dimensione sociale e che tutto questo porterà a un aumento della sicurezza dell'accessibilità del comfort e della regolarità del servizio perché questo ci aiuterà molto il rinnovo della flotta sicuramente diminuirà anzi aumenterà l'affidabilità e tutte le altre azioni ci consentiranno anche di aumentare quella che è la velocità di percorrenza tutto questo porterà a un miglioramento della percezione della qualità del servizio e favorirà anche un aumento dei passeggeri e conseguentemente dei ricavi che non è un aspetto secondario dal punto di vista della dimensione economica noi puntiamo ad incrementare i nostri ricavi proprio attraverso quindi tutte quelle azioni di rinnovo flotta ma puntando anche molto sulla digitalizzazione dei processi di vendita questo perché perché l'utente o il cliente deve avere la possibilità di acquistare facilmente il titolo di viaggio spesso e volentieri questo non è facilmente accessibile e quindi o allontana la persona ma che potrebbe essere potenzialmente anche il turista perché anche a lui noi stiamo orientando anche verso di loro stiamo orientando le nostre scelte determina la scelta di utilizzare o meno un servizio quindi è un pilastro strategico del nostro piano industriale per parlare di numeri e riferirli poi anche a quelli che sono gli obiettivi della tassonomia questi sono i numeri 505,8 milioni che è il totale degli investimenti che verranno effettuati dalla nostra società nel periodo 2023 2027 alcuni di questi hanno dei benefici espliciti abbiamo voluto utilizzare questo termine riferita riferito a perseguire gli obiettivi dei primi due obiettivi ambientali della tassonomia mentre gli altri hanno dei benefici impliciti che vuol dire che di base potrebbero anche non essere indirizzati a perseguire quei due obiettivi quindi l'adattamento ai cambiamenti climatici alla mitigazione dei cambiamenti climatici ma che attraverso la digitalizzazione del processo di vendita potrebbero aumentare e quindi far scegliere le persone di utilizzare il servizio pubblico numeri sono 485 milioni di euro investiti in 2023 24 25 26 27 5 esercizi io non parlavo di investimenti da tanto tempo quindi sono orgoglioso di far parte di questa squadra sono orgoglioso del fatto che finalmente grazie al contributo menageriale del nostro nuovo ministro delegato finalmente questi risultati siano stati raggiunti però abbiamo una visione ben chiara quella che in futuro la nostra società diventi veramente un punto di riferimento anche riprendendo il concetto legato a questo progetto che si chiama TMF il team mobilità futura che in collaborazione con Politecnico Fondazione Lynx e Compagnia di San Paolo sottolino Compagnia di San Paolo perché è grazie a loro che siamo riusciti a portare a termine questo progetto vogliamo essere promotori di innovazione e questo ci consentirà veramente di lavorare su quei progetti di cui si è accennato prima e che potrebbero veramente essere la strada maestra quindi potremmo portare degli esempi virtuosi di gestione del trasporto pubblico ottenendo veramente dei risultati che potrebbero consentire anche alla città perché questo anche noi abbiamo collaborato la redazione del Climate City Contract a raggiungere questo obiettivo ambiziosissimo di raggiungere la neutralità climatica al 2030 questi sono i risultati che vuol dire va bene ma concretamente gli investimenti che state facendo ma che risultati producono bene il rinnovo della flotta porterà nel 2027 a ridurre del 59% le emissioni di CO2 del 94% le emissioni di NeoX del 97% le emissioni di particolato e del 99% gli idrocarburi non metanici in combusti il tema non sono solo le CO2 adesso si parla anche di impronta carbonica dove ci sono le tonnellate di CO2 equivalenti qui abbiamo sostanzialmente ripartito le fonti di emissioni il particolato secondo me è uno di quegli aspetti da non sottovalutare prima accennava la stessa foglietta è quello che sostanzialmente può portare maggiori danni per la salute dei cittadini ed è quello uno dei parametri che maggiormente viene attenzionato sulla dimensione della sostenibilità sociale quindi verso i clienti utenti come potrà essere migliorata attraverso il rinnovo della flotta come si diceva prima che garantirà una maggiore sicurezza accessibilità e comfort all'aumento della qualità del servizio offerto con riferimento a puntualità regolarità e pulizia dei nostri veicoli digitalizzazione dell'acquisto del processo dei titoli di viaggio e l'aumento dei controlli sul territorio ok questo sia verso i clienti e gli utenti ma sui giornali lo avete letto sicuramente in questi ultimi giorni l'aumento dell'aggressione a carico dei nostri conducenti e dei nostri verificatori di titoli di viaggio però questa è la società in cui noi viviamo e attraverso le nostre scelte attraverso le nostre politiche possiamo sicuramente cambiare certe dinamiche noi stiamo cercando di impegnarci al massimo però questo per fare un parallelismo mette in difficoltà in seria difficoltà chi ci crede perché si ritrova se si ritrova a vivere in un contesto che non ci crede diventa estremamente complicato raggiungere questi risultati verso i nostri collaboratori nell'attuazione di azioni di welfare quindi il benessere proprio lavorativo dei dipendenti di GTT delle azioni di comunicazione e soprattutto di condivisione delle linee strategiche aziendali quindi noi abbiamo da poco aggiornato mission vision e valori e partiremo in queste settimane con una forte azione di comunicazione proprio per ripartire da lì quindi chi lavora con noi si deve ritrovare nei valori che noi abbiamo condiviso e deve sostanzialmente applicarli metterli in atto in ogni singola cosa che fa per la nostra organizzazione solo questo ci consentirà veramente di migliorare ancora la valorizzazione delle competenze verso gli altri stakeholder gli impegni con i principali enti di controllo e le istituzioni la partecipazione a progetti innovativi inerenti alla mobilità si accennava prima al Living Lab to Move e la partnership strategica con la città di Torino nella mission 100 Climate Neutral and Smart Cities by 2030 riferimento invece alla dimensione della sostenibilità economica puntiamo ad un incremento dei ricavi conseguente al rinnovo e soprattutto alle politiche di incentivazione del trasporto pubblico perché sicuramente da sole le aziende di trasporto difficilmente potranno riuscire a raggiungere questi risultati e quindi è bene che le amministrazioni e il governo veramente poi trasformi quelle che sono parole in fatti quindi andando anche ad aumentare quelle che sono le risorse dedicate al Fondo Nazionale Trasporti perché questo veramente poi potrebbe consentire alle società di trasporto di essere molto più competitive e di essere veramente una scelta quindi le persone potrebbero finalmente decidere di lasciare la macchina in garage o addirittura non acquistarla ma non per necessità ma perché il nostro servizio i nostri servizi di trasporto pubblico sono efficienti utilizzo delle risorse garantite alla società in virtù delle politiche di sostenibilità ambientale quindi utilizzare i fondi del PNRR secondo il principio di non arrecare danno agli altri obiettivi politiche di efficientamento energetico se ne è parlato prima non è facile perché poi in autofinanziamento decidere di realizzare degli impianti di autoproduzione è una scelta impegnativa in più aggiungo che non c'è solo l'impianto di autoproduzione ma anche la realizzazione di tre impianti di accumulo proprio per evitare perché poi fondamentalmente utilizzando autobus alimentati ad energia elettrica in caso di blackout difficilmente potrebbero essere ricaricati e tornare in esercizio quindi la realizzazione di impianti di accumulo in teoria dovrebbe mitigare questo rischio sicuramente attraverso anche un utilizzo strategico ridurre i costi di approvvigionamento perché potrebbe essere acquistata energia proprio nei momenti in cui il PUN è più basso e questo ti consentirebbe di raggiungere anche dei vantaggi dal punto di vista di acquisto della materia prima di energia ultimo punto è sul rinnovo e la domotizzazione degli impianti di riscaldamento per ospitare tutti i nostri veicoli e le officine dedicate alla manutenzione dei veicoli e gli uffici del personale che garantisce l'erogazione del nostro servizio abbiamo degli impianti che sono molto grandi realizzati ormai da più di 40-50 anni alcuni anche più vecchi e quindi con impianti molto vetusti quindi stiamo partendo con un rinnovo e con la domotizzazione e quindi utilizzare il caldo quando serve e quindi anche in funzione delle temperature esterne di tutti gli impianti di riscaldamento presenti in GTT ora lascerei la parola a dottoressa Sanfilippo che continuerà la presentazione grazie buongiorno a me tocca presentare una slide piuttosto affollata come vedete è quella che rappresenta sostanzialmente i principali interlocutori con cui ci relazioniamo e con cui condividiamo l'alineamento sulle tematiche di sostenibilità appunto ambientale e sociale ed economica che potete immaginare impattano in maniera sostanziale sulla costruzione del servizio offerto alla cittadinanza facciamo un esempio per quanto riguarda per esempio il programma preventivo del servizio anno che è il GTT con il suo gruppo di persone che si occupano della pianificazione del servizio appunto il GTT collabora strettamente con l'agenzia della mobilità piemontese con gli enti di controllo nel programma preventivo del servizio anno è prevista anche proprio già la quota di esercizio che deve essere esercito con mezzi elettrici piuttosto che con le altre motorizzazioni vediamo noi abbiamo evidenziato in particolare i rapporti con gli enti di controllo e le istituzioni con cui condividiamo questo impegno e vediamo in particolare poi per giungere nello specifico alla costruzione del documento della DNF in particolare abbiamo questo evidenziato il rapporto con l'ordine professionale dei commercialisti e l'università Politecnico Università di Torino con cui appunto abbiamo approfondito le tematiche di rendicontazione secondo quanto prescritto vediamo da aiuto scusatemi così così vieni l'hai spento comunque vediamo in particolare eccolo qua dal decreto legislativo 254 del 2016 che che da proprio che ci espone quanto è richiesto per per costruire questo documento noi ovviamente già nelle passate edizioni del documento abbiamo sempre rispettato queste questi punti queste richieste del decreto nella elaborazione del documento che quest'anno ci accengiamo a poi a a produrre siamo stati sollecitati con dei suggerimenti delle proposte di miglioramento dall'ente che appunto dall'ordine dei commercialisti e dal dipartimento di management nell'approfondire nel valorizzare queste tematiche che già ovviamente abbiamo già trattato e quindi sia per quanto riguarda le le politiche adottate e gli obiettivi individuati nel piano industriale sia per quanto riguarda la scelta di GTT di effettuare la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni dirette o indirette dei gas effetto serra quindi l'impronta di carbonio sia per quanto riguarda la sostenibilità della catena di fornitura evidenziando le nostre scelte strategiche tipo per esempio di scegliere prioritariamente di assegnare a dei vettori che producono che sono in grado di produrre chilometri con autobus ad alimentazione elettrica o comunque nella scelta di applicazione di criteri premianti legati alla sostenibilità nelle procedure di acquisto a aziende che appunto dimostrano attenzione alla sostenibilità ambientale quindi utilizzo di criteri ambientali minimi e quant'altro altro tema che ci è stato su cui sicuramente dobbiamo approfondire e che dobbiamo valorizzare è proprio un progetto su cui ci stiamo per cimentare quest'anno che è quello dell'acquisire la certificazione per quanto riguarda la parità di genere quindi appunto valorizzare le politiche che già sono obiettivamente presenti in azienda semplicemente documentandolo certificandolo attraverso una linea guida che è quella appunto specifica sulla parità di genere sostanzialmente sono andata avanti e ho già concluso la mia parte passo la parola alla mia collega la dottoressa Travaglini che vi parla di tassonomia buonasera a tutti finora abbiamo parlato appunto degli obiettivi ambientali abbiamo visto il nostro rinnovo della flotta abbiamo parlato del nostro piano industriale abbiamo parlato di una serie di tematiche relative a gtt adesso ci addentriamo nella parte più propriamente contabile e soprattutto di rilevanza del controllo di gestione per quanto riguarda ribadisco di nuovo per quanto quello che è stato già detto nell'ambito di gtt le attività aziendali allineati come è stato detto prima erano quelle essenzialmente del trasporto pubblico urbano di superficie a trazione elettrica quindi tram bus elettrici e per quanto riguarda invece il trasporto urbano di metropolitana della linea 1 per quanto riguarda la produzione la metropolitana 100% allineata la produzione dei tram 100% allineato per quanto riguarda i bus elettrici 100% allineata ma la produzione attuale dei bus elettrici è in divenire come abbiamo detto prima passeremo da una percentuale bassa a una grandissima rilevanza nell'ambito del parco autobus di gtt e anche per quanto riguarda l'extrurbano è previsto un incremento notevole di mezzi sostenibili quindi di autobus a gasolio rossei e metano come faccio a girare scusa che non come posso girare no ok aspetta ok il controllo di gestione è stato chiamato essenzialmente per il calcolo dei KPI i KPI quindi gli indicatori previsti dalla normativa dall'articolo 8 del regolamento 852 e dei regolamenti attuativi il KPI che abbiamo calcolato secondo la normativa sono i KPI relativi al fatturato i KPI relativi alle spese operative e KPI relativi alle spese in conto capitale questi KPI dall'anno scorso devono essere calcolati sia per quanto riguarda le attività ammissibili sia per quanto riguarda le attività allineate e quindi cosa abbiamo pensato insieme anche al dottor Chiappero al dottor Barberis eccetera quali erano le voci che interessate dal calcolo di questi KPI perché la norma all'inizio non era molto chiara quindi c'erano dei dubbi interpretativi alla fine ci siamo anche confrontati con altre realtà e abbiamo visto che la metodologia utilizzata era quella utilizzata anche da altre aziende quella corretta nell'ambito del KPI relativo al fatturato abbiamo considerato i ricavi tipici aziendali quindi i ricavi da biglietti abbonamenti quindi i ricavi da traffico e i corrispettivi da contratto di servizio delle attività ammissibili sul totale dei ricavi di GTT per quanto riguarda le attività allineate invece è sempre lo stesso criterio però dovremmo utilizzare il driver della produzione quindi dovremmo andare ad applicare le percentuali viste prima ai ricavi del comparto urbano del comparto exurbano e della metro non vi ho detto una cosa essenziale la possibilità di calcolare questi indici per quanto riguarda il GTT è data dal fatto che alla base c'è una contabilità analitica che ci permette di avere una contabilità regolatoria quindi di avere la possibilità di avere dei costi e dei ricavi direttamente imputabili alle business unit aziendali che sono quella del TPL urbano della metro dell'exurbano e della ferrovia che c'era che adesso non ci sarà più nel 2023 però comunque abbiamo la possibilità di individuare esattamente quindi i costi e i ricavi imputabili a queste unità di business questo ci ha permesso di calcolare i KPI al meglio invece per quanto riguarda le attività allineate che sono un sottinsieme delle attività ammissibili in questo caso in prima battuta appunto come dicevo prima dovremmo utilizzare dei driver dovremmo applicare essenzialmente il driver della produzione però poi lo discuteremo meglio anche con con il dottor Chiappero con il dottor Barberis e con l'università per quanto riguarda invece il KPI relativo alle spese operative abbiamo considerato appunto le spese operative di GTT essenzialmente le spese di manutenzione i materiali i servizi godimento beni diversi e oneri diversi e questo per quanto riguarda sia le attività ammissibili che le attività allineate sull'ultimo KPI e quindi quello relativo alle spese in conto capitale anche qui la nostra contabilità ci permette di individuare esattamente gli investimenti associati alle varie business unit e quindi riusciamo a determinare gli investimenti effettuati sia per le attività ammissibili che per le attività allineate anche anzi qui in maniera anche più semplice in quanto tutti gli investimenti collegati al rinnovo della flotta sono assolutamente individuabili questo è quanto vi ringrazio ringrazio molto l'architetto Gaudiello la dottoressa Sanfilippo e la dottoressa Travaglini per averci rappresentato un po' più nel dettaglio quello che è poi il riflesso della tassonomia nell'ambito della dichiarazione non finanziaria in particolare l'autoressa Travaglini ci ha parlato delle metriche che in ottica appunto di collegamento con dati finanziari tipici del bilancio vanno a rappresentare la quota delle attività economiche di GTT che sono allineate che sono prima ammissibili poi allineate agli obiettivi della tassonomia si tratta di aspetti che per quanto riguarda la normativa vigente quindi il decreto legislativo 254 del 2016 devono essere oggetto di una specifica sezione della dichiarazione non finanziaria che al momento con l'attuale normativa non è ancora necessariamente inglobata nella relazione sulla gestione abbiamo invece già detto che con invece il recepimento della Siesa Sdi queste informative dovranno far parte a tutti gli effetti della relazione sulla gestione e anche a livello di perimetro di assurance di queste informative per la prima volta lo schema del decreto di recepimento che come dicevo all'inizio in consultazione prevede che rientrino nell'oggetto del controllo che sarà svolto da chi sarà abilitato a rilasciare le attestazioni sulle informative di sostenibilità quindi questo è sicuramente un aspetto che anche per noi sarà molto importante in prospettiva e sarà da approfondire a questo punto io mi avvio alle conclusioni di questa giornata di questo pomeriggio ringrazio di nuovo i relatori e tutti voi che ci avete appunto seguiti fino al termine riprendo soltanto uno spunto che è quello sul ruolo che noi commercialisti abbiamo in questo processo evolutivo della gestione dell'impresa verso la sostenibilità noi siamo consapevoli della complessità del cambiamento indotto dalla transizione climatica ed energetica e dagli effetti che questo riveste sotto il profilo sia di governance organizzativo dell'impresa che della rendicontazione e come abbiamo visto anche della revisione perché appunto la CSD modifica non a caso sia la Canti Directi ma anche la direttiva revisione ci troviamo pronti ad assistere le imprese in questo cambiamento che sottende in linea con i principi del Green Deal recepiti dai regolamenti dalle direttive europee che sottendono impatti, rischi e opportunità che l'impresa responsabile come abbiamo visto oggi non può appena uscire dal mercato o appena uscire dai canali di finanziamento non può permettersi di trascurare vi ringrazio quindi di nuovo per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo incontro dell'osservatorio che è programmato per il mese prossimo per il 9 di aprile che sarà dedicato proprio all'integrazione dei fattori ISG nel rischio di credito e alle informative da predisporre da parte delle imprese su richieste delle banche anche a seguito delle già prima richiamate linee guida EBA sulla gestione dei rischi ISG che sono in consultazione a partire dal 18 gennaio scorso vi ringrazio ancora e tributerò ancora un applauso ai relatori grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti